Grazie a tutti. Non c'è Tania oggi perché è andata a sciare, dice, con tutto quello che guadagno lì da voi facendo la televendita, alla fine mi sono comprata direttamente un impianto sci, neanche ha preso il giornaliero. No, è a casa, è a casa, mali di stagione, mali di stagione che hanno preso anche un po' me, poco poco, due o tre giorni che sono un po' così, però c'è la diretta. Ora siamo qua, io quando c'è la diretta trovo nuova linfa, nuova forza, che dire, iniziamo con il nostro solito, intanto abbiamo cambiato giorno, ringrazio chi ha avuto la pazienza di subirsi intanto i nostri messaggi di pubblicità su Facebook, pubblicità su YouTube, pubblicità qua in televisione. Ringrazio chi è davanti appunto a guardarci e chi ci guarderà su YouTube registrata tipo appunto oggi o domani e iniziamo con il nostro solito percorso. Iniziamo con lo spiegarvi come trovarci, per chi venisse da Ponente, sopra levata, uscita acquario, si scende giù a metà della sopra levata, si parcheggia lì, ci sono tanti bei parcheggi, si fanno 100 metri a piedi in linea d'aria e ci siamo noi, ci siamo noi verso piazza Campetto, verso piazza Sozziglia, noi siamo lì da via Luccoli, appena imboccata via Luccoli, si gira a destra, si va su, quella è Vico Casana. Poi, per chi venisse invece dal Levante, che è Levante comporta appunto, che possa essere la Toscana, l'Emilia, a proposito dell'Emilia, poi saluterò un caro amico, un nuovo amico, per chi venisse da lì, si esce a Genova Nervi o a Genova Est. No, ora facevo i selfie da die, vabbè, guardavo una che faceva i selfie, vabbè. E bravo Marco, grazie, per chi venisse invece da appunto Levante, si esce a Genova Nervi o Genova Est, si arriva fino in centro via Vernazza, parcheggio Silos, piazza dei Ferrari, la piazza con la Fontana, di davanti dal Carlo Felice vedrete che c'è a Vico della Casana. Ecco, l'ho spiegato meno bene di Tania, sono meno carini di Tania, però alla fine si fa di necessità virtù. Che dire, che dire, che dire, spero abbiate, cosa ti chiedevano? Bracciali da uomo. Bracciali da uomo, una collana da uomo, oggi bracciali da uomo, devo guardare, devo guardare, se voleste qualcosa da uomo, io qua non so se notate qualcosa di carino, di passabile, di così, ma. Allora, vediamo un po', vediamo un po', intanto mi arrivano i messaggi, ancora devo vedere chi ha, a proposito di messaggi, prima di aprire, prima di aprire, mi viene in mente che ho preso un pensierino della sua squadra, della nostra squadra del cuore, e la mia amica Antonietta, glielo porterò per scusarmi del fatto che non ho fatto la consegna a lei. Una cara amica, se non fa una consegna a cara amica, a chi le fai? Io voglio dire, ma io fossi al di là, le prenderei così, me per un orecchio fossi in lei e direi, ecco qua, che ti bacchetto. Vediamo un attimo, dicevo, spero abbiate la pazienza di sopportare il fatto che appunto, essendo da solo, sarà un pochino più lento, vedrò di non far ripiangere Tania il più possibile. Vediamo, allora, qua abbiamo questa, una spilla, anni, venti, diamanti, oro, bianco, le misure, le misure, le misure, prima abbiamo preso le misure con Marco. Marco, ti sei mica portato via il mio metro? Vabbè, ora poi andremo a vedere se lo trovo tra poco, eccolo qua, che davo subito la colpa a Marco. Vediamo, 5 centimetri e passa per 2,5, andiamo a vedere questo, signore, andiamo a vedere questo, Marco, spero di esserci, dimmi tu se ci sono, perché non lo so, sì, ci sono, ci sono. Vediamo, mi sposto poi un po' più in là, mi sposterò perché, vedete appunto, oro bianco, diamanti, abbiamo detto diamanti pochi, a pochini ci sono. Quanto ho detto di peso? Ho detto il, la misura, peso, siamo tra i 6,5, 6,5, 6,6 grammi e mezzo, signori. Vediamo un po', 210 euro la richiesta, 210 euro, perché andate a 31, 32 euro al grammo con diamantini, pochi, pochi, ma ci sono. L'ora è 18 carati, mi è, guardate, io l'ho presa perché mi ha detto forse, forse, forse è in platino. Poi, visto che invece è oro, 18 carati, comunque, 210 euro la richiesta, dicevo, 5 centimetri per 2,5, quindi neanche piccola, assolutamente, via, grazie. Io vi consiglio, aspetta Marco, non andare via, se mi vai, no, vabbè, siamo già dentro il più possibile, vi consiglio di prendere in considerazione se amate gli oggetti antichi. Perché? Per il semplice motivo, per il semplice motivo che è una gran bella lavorazione e, torna pure su di me, Marco, grazie, così passiamo al lotto successivo, e, vista da distante, fa comunque la sua scena. Ecco, questo era il senso del mio discorso, 210 euro, è il lotto numero uno. Penso che abbiamo iniziato, tra virgolette, col botto, perché comunque sento che avete chiamato, che siete presenti, grazie mille dei saluti. Poi, vediamo un po', questo che è il modello, lo faremo dire ad Alessandra, perché l'altra volta glielo ho detto, vediamo se è stata attenta. 10 grammi, oro bianco, 18 carati, chi mi dice, cioè Alessandra, il modello che ha, chi ha fatto questo modello? Pomellato? No, Cartier, perché gli ho fatto pomellato, e lei, pomellato. No, Cartier, Cartier ha fatto questo modello, che belle le mie unghie, le mie mani, curate come quelle di Tania. Allora, 10 grammi, signori, 320 euro la richiesta, satinata e liscia, liscia nella contromaglia, bella, grande, consistente. Poi, vediamo satinata, cerchiamo di girarla, vediamo qua dall'altra parte, è dormiente, una pantera dormiente, insieme a tanto Arturo, Arturo che in questi giorni che si è messo freddo, perché gli è andato in letargo. Via, grazie, via, grazie, via, grazie. Allora, la misura, la misura, perché mi hanno fatto cena ai telefoni, ora io col metro oggi avrò un bel da fare. Vediamo un po', perché ogni volta che poso il metro io sono un uomo, in tutto e per tutto. Se parlo non posso guardarmi intorno, se mi guardo intorno, anche se ho un oggetto sotto il naso, devo chiamare Alessandra per farmi dire dove è l'oggetto, o mia madre per farmi dire dove è l'oggetto. Vediamo, è 3,6 cm, quindi anche bella grande, bella consistente. Questo è l'otto numero 2, se non erro, giusto? Per il numero 3, vediamo un po', per il numero 3 ho questa spilla che ha, a mio parere, a parer mio, deliziosa. Siamo intorno ai 12 grammi, 360 euro, questi smalti sono di un verde che ora va molto, molto, molto di moda, va per la maggiore. Vediamo un po', circa 12 grammi, fai, metti 11,5 così andiamo sul sicuro. Tra poco vi dirò le misure, le misure, 11,5, ok, scusami, 300, vediamo, 12,5, 36, 11,5 dicevamo, 12,5, 360 euro. Smalti, smalti verdi, poi vediamo un po', smalti dati a fuoco, vediamo un po', bene, rimaniamo così, così inizio a fare le buste, continuo, anzi, anzi inizio perché non ho ancora fatto niente, io senza mio braccio destro sono perso, meno male, c'è l'Ale qua e appunto gli altri due telefonisti che mi aiutano. Il lotto numero 1, cosa ho fatto, 210? 210. Perfetto, vediamo un po', questa spilletta con il motivo floreali, tre fiori, 360 euro, oro 18 carati, smalti, vediamo un po', tutte le foglie, tutte le foglie lavorate, lavorate finemente a mano da qualcuno che sapeva assolutamente il fatto suo. Le misure, le misure, andiamo a vedere anche quelle, andiamo a vedere anche quelle, prima o poi comprerò un metro nuovo, giuro, 5 centimetri circa, vediamo un po', 360 euro, io qua vedrei anche bene e tu che sei orrafo, vediamo se mi dai il tuo benestare, se mi dai ragione, quantomeno se sei d'accordo con me, la vedrei bene anche come chiusura, questa è una bella spilletta, ma come chiusura la vedrai molto, molto, molto bene, via, grazie, via, grazie, il lotto numero 3, poi vediamo un attimo, per il numero 4, chi è che mi guarda, mi prendi quel telecomando di sotto per il, come si chiama, per il... Oh, bene, non ti ho potuto mandare messaggio perché non ho il tuo, grazie, il tuo cellulare, non ho il tuo cellulare, un caro abbraccio, ma forte, forte, forte ad Andrea, che è uno dei più vecchi clienti, nel senso più affezionati, di qua del mercante d'oro, 6.2 il peso, corallo, corallo, vediamo, corallo, 6.2 il peso, 6.12, 18, 170 euro, 170 euro, una bella semisfera in corallo, corallo naturale, oro 18 carate, andiamo a vedere questo, mi dispiace che è sulla mano di una signorina, sono certo che... Dimmi Marco, 170, 170, 170, corallo, oro 18 carati, 170 euro, la richiesta, nel frattempo, ora, finalmente, potrò andare a vedere quelli che sono i messaggi che mi sono arrivati, 5 messaggi, vediamo un po', eh, caro mio, caro mio, un saluto a Modena intanto, un saluto anche alla signora di Milano, vediamo un po', via, 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 ma come si fa a non chiamare per una cosa simile, io lo so che, vabbè, oggi non vi abbiamo avvertiti, come avremmo dovuto invece fare, capisco che siamo un po' meno oggi, però, io dico, 170 euro, via grazie, via grazie, via grazie, ridevo perché la, perché la, la Tania ha anche mal di schiena, dice, sì, 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 sciatica, perché è anche bloccata, e il papà mi ha scritto, mi ha detto, guarda, se passi da Sean Pauluc, abbiamo preso lì il nostro, il, appunto, la pista, l'abbiamo comprata lì, se vuoi venire, vieni, sei ospite, quindi sappiamo che se vogliamo andare dal suo, eh, ok, vediamo un attimo, abbiamo questo, questo è stato fatto su richiesta, eh, precisamente da un, da un privato, scusate, da un privato, ha fatto fare questo, l'ha fatto lavorare, prima ha fatto una gomma, poi l'ha fatto lavorare in tarsiare a mano, vediamo un po', allora, siamo intorno, intorno agli 11 grammi, 11 grammi, 330 euro la richiesta, 11 grammi, non lo dico urlando, lo dico chiacchierando, perché quando si fa vedere l'oro a 18 carati a 10, a 30 euro al grammo, non bisogna fare i piazzisti, non bisognerebbe mai farlo, dico la verità, ma ancor meno nel momento in cui si fa vedere un oggetto simile, torna pure su di quello, intanto guarda, oggi sono da solo, quindi non è neanche un bel vedere, dimmi. Grazie alla signora di Bordighiera. Grazie alla signora di Bordighiera. E quella di Sanremo, poi non l'ho più sentita, è piaciuto l'oggetto signora? Le è piaciuto? Via, grazie, il lotto numero 5, ma anche questo, ma io dico, a 30 euro al grammo, una lavorazione simile, oltretutto, oltretutto, qua, sempre perché oggi non avendo la mia aiutante, il mio braccio destro, qua siamo a 3 centimetri, non vi posso dare il senso delle misure di quello che ha l'anello, bisognerebbe, bisognerebbe indossarlo. Tenete conto che dovrebbe essere, io ho detto, quanto ho detto di peso? 11, giusto, dovrebbe essere 10.7, lo dico, perché poi tante volte le persone, a volte le persone dicono, eh, però sai, le dico anche di meno, e non è che poi chiedo niente di più dopo. Un saluto, un saluto, intanto a Bologna che mi è stato scritto adesso, e un saluto all'amico di Reggio Emilia, di Reggio Emilia ci siamo conosciuti ultimamente, è stato molto piacevole, persona con cui si può parlare apertamente e tranquillamente, vediamo un po', a proposito di quel ciondolo bello che abbiamo fatto vedere prima in oro bianco, per cui non l'avete chiamato, è male, 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 è ancora male, abbiamo questo che è oltre i 4 grammi, lo andiamo a vedere, oltre i 4 grammi, dimmi Marco se va bene come mi sono messo, perché ancora devo prenderci la mano, allora questo è un... Delfino. Oh, non mi guardare, aspetti che ti dia una dritta. Delfino, è una richiesta. Ah, 4.2, Delfino, l'oro, dai, così inveggendo un po' anche l'oro, come si dice a Genova, che oro è? Il colore. Giallo e bianco, ecco, lo dico, perché così cerco di capire voi a casa cosa potete vedere, se anche loro me la toppano qua. Vediamo un po', questo è bianco e liscio, giusto? E di qua è giallo e bianco satinato, un bel ciondolo, 4.2, 4.8, 12, 120 euro la richiesta, 120 euro, tenete conto signori che è nuovo questo, non è stato mai indossato, mai usato assolutamente, la contromaglia è bella grande, 120 euro, l'otto è il numero 6, via grazie, via grazie, via grazie, poi non so se ho salutato gli amici di Albenga, non mi ricordo se a loro ho scritto, perché ho detto, vabbè, scrivo direttamente, magari li chiamo, poi ho avuto da fare, e vabbè, e vabbè, e vabbè, se non fosse comunque vi saluto. E qua abbiamo questo, questo anellino con uno smeraldo, lo smeraldo è 0,70 all'incirca, perché abbiamo fatto la caratura sul montato, potrebbe essere 0,65, ok? Oppure anche 0,75, meglio per voi. 0,70 indicativamente, scusate i brillanti, 0,70, lo smeraldo è 0,60, la richiesta, 280 euro. Sto facendo questa cosa, ora voi, vorrei, vi immaginaste con questo al dito, e pensare che un anello così, visto al dito, non è grandissimo, tenete conto, ma un anello così, signori, visto al dito, sono diamanti, non sono brillanti, un anello così, visto al dito, fa la scena di un anello che, come posso dire, può costare 8, 900, 1000 euro, 8, 900, 1000 euro, ma non sto scherzando, signori, non è che dico tanto per dire, tanto per chiacchierare, cioè, messo al dito, vedete, ora vi faccio vedere più o meno le proporzioni, tenete conto che io di Mignolo ho anni circa 13, 14, quindi voi fate poi i vostri rapporti, vediamo un po', e le vostre considerazioni, 280 euro, è l'otto numero 7, tenete conto, oggi andrò con un filino, poco più di calma, perché? Per il semplice motivo, A, che sono da solo, B, che non sono proprio in forma, in forma, e C, perché oggi? Perché oggi? No, finisce alle 4 e mezza, lo stava per dire però, via grazie, via grazie, via grazie, ma questo, signori, questo anellino qua, no, torno in un secondo solo, perché giuro che poi lo tolgo, lo so che volete vedere le cose più consistenti, più importanti, ma questo anello, cari signori mie, alla fine, con 280 euro, prendendo un anello così, fate una gran figura, spendete poco, avete smeraldi brillanti e oro bianco 18 carati, fate poi voi, via, grazie, il 7, via, fate poi voi, non è un problema, non è un problema, insieme, ce l'ho con la pietra di colore, la faccio vedere adesso? Ha chiamato, da quanto ho capito, una cliente o un cliente, non so chi sia, non so da dove, dicendo che ha visto, appunto, mi ha fatto capire l'Alessandra che della spilla in bianco la voleva però con un po' più di colore, perché deve averla già, presumo io, allora abbiamo questa, vi dico subito le misure, contro maglia compresa siamo a da 6 e mezzo di lunghezza e 3 di larghezza, 0,50 lo smeraldo, 0,38 i diamanti, l'oro a 18 carati, anni 20, 165, 165, no l'altro è Sky, ma di nuovo non si vede, Marco non si può dire a qualcuno che in centro di nuovo è saltato, qua a Genova, si, grazie mamma, allora abbiamo detto, dai Marco, 0,38 i diamanti, 0,50 lo smeraldo, no mettimelo un po' più, mettimelo qua per favore, allora la richiesta, perché sennò tanto Marco non me lo scrive, la richiesta è di, e 8 grammi, la richiesta è di 320 euro, un saluto a Novara, la signora Marisa, 320 euro la richiesta, spilla, spilla con contro maglia, con diamanti, con lo spillone, 8 grammi, 7,8 o 7,7, ora non mi ricordo, vedete 8 per praticità, bravo metti i grammi, vedete la misura, bravo Marco che hai marcato, 6 e mezzo per 2,8, ho detto 3, va bene, va bene così, 320 euro, via grazie, via grazie, via grazie, via grazie, il cliente questo che me l'ha lasciata, giustamente, e dico, e sottolineo giustamente, non lo dico perché mi sta guardando, perché lo so, ci siamo scritti prima, ma giustamente mi dice, devo farti vedere degli oggetti, ho 2, 3 spille molto belle, mi ha fatto vedere appunto quelle spille, questa qua, quella di prima, è un'altra che dopo vi farò vedere, e giustamente lui pensava ad avere un tesoro, ha detto, guarda, io farò dei prezzi che tu non puoi immaginare e ora lui ne ha la prova, perché 320 euro per un oggetto con uno smeraldo del mezzo carato, 0,38 di diamanti, 8 grammi, 7,8 di peso, di oro bianco, più l'antichità, più la bellezza, più la particolarità, 320 euro, veramente come comprare una macchina di lusso, a 7 mila, ecco, il senso del discorso è quello. Poi, 330 cos'era il 5 che è stato prenotato? Brava, 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 questo era quello fatto su richiesta. Poi, il signor Silvestro, se ci fosse il signor Silvestro, può chiamare un attimo lì che, tanto siamo già, oh, finalmente un paio di prenotazioni sono arrivate, una lì in caldo la stanno sfornando, vediamo un po', perché non si vive solo di gloria, che non c'è, ma anche di prenotazioni, vediamo un po'. 0,15 i brillanti, smeraldi un karate 30, 5 grammi e mezzo, 160 euro sotto i 30 euro al grammo. No, è attenta lì, intanto, me la passi di qua a favore? Passa pure, puoi passare quando hai ripreso lì? Questo, signori, abbiamo gli smeraldi, grazie mille. Sì, 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 è da parte. Ora, cara signora, che ha da parte il giro, io ho guardato l'altro giorno per fare quel cambio che lei mi ha chiesto, vediamo se si può, mi dica lei cosa pensa di fare, mi invoglio un attimo, perché, perché tante volte ho degli oggetti in conto vendita e fare i cambi non mi viene molto semplice, è tutto lì. Vediamo un po'. Allora, anello, l'anello è di forma? Non è proprio vale, è più rettangolare che, o tu, ottagonale addirittura? rettangolare. Ah, ok, ok. Poi, la pietra al centro ha uno? Con? Sì, sì. Brava, e smeraldi? Sì, una non l'ha detto. Come? La misura di quest'anello è la messa. Torna su di me, Marco, per favore. Se riesce, aspetta, 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 aspetta. E' a circa un 15, però si può allargare o stringere. Vediamo un po', dai, fallo vedere ancora un secondo solo, Marco, per cortesia, via, via, grazie, dai, via, 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 a 28, 29 euro al grammo, ci manca ancora che rimanga ancora un po' lì. Poi, a proposito di polemiche, saluto, saluto, no, perché l'altra volta ho fatto una tiritera sulle televendite, su chi dice, su chi pensa, perché qualcuno finisce nel caos con le televendite che tutti debbano essere così. Dato che io rido e scherzo, ma la prendo d'aceto spesso, chi mi conosce lo sa, ho fatto tutta una filippica su queste cose, mi ha scritto una mia ex amica, dicendo, mi deve essere il mio polemico preferito, poi alla fine, l'altra volta è venuta giù in negozio, ci sono lasciati un po' così e allora la saluto tanto, la saluto tanto. Giusto? E anche lei perché è stata una signora, perché mi ha portato regalino per l'Ale, oltre di tutto si è ricordata da un discorso che io ho fatto in tv, quindi è stata signora il triplo. Vediamo un po', saluto lei e la figlia, 6 grammi, oro rosa, giallo e bianco, 6 grammi, almeno io qua lo intravedo, rosa, sì, 6 grammi, oro rosa, giallo e bianco, una bella spilla anche questa, signori 612, 18, 170 euro, 170 euro la richiesta per questa spilla fatta a gomitolo, diciamo, a gomitolo, vediamo un attimo, bravo Marco, ok, oro bianco, oro rosa, oro giallo, grazie mille, un saluto alla signora Rosanna, signora Rosanna, io l'ho cercata tanto, 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 le avevo mandato anche un messaggio per un semplice, dimmi, ma, ah scusa, via, grazie, via, grazie, saluto ai 30 euro al grammo, perdonatemi se non ci sto tanto, però cercate di capire che è più una spesa che un guadagno, anzi, il guadagno non c'è assolutamente, c'è solo la spesa. Dicevo, cara amica Rosanna, avevo da parte per lei quel bracciale che ho lasciato sempre da parte e lei nella seconda prenotazione sono riuscito a dare, era il 10 questo? Sono riuscito a dare la prima prenotazione, era l'otto numero 10? Sono riuscito a dare alla prima prenotazione un altro oggetto per tenere per lei quel bracciale e poi non l'ho più sentita, è un bracciale, o forse aveva chiamato, oh, vabbè, Vale ride, dice, vai, sei svampito, c'ha ragione, c'ha ragione, vediamo qua, signori, 8 grammi, no, scusate, 7 e mezzo, allora, perle, peridoto, ametista, oro giallo 18 carati, 7 grammi e mezzo, 7 grammi e mezzo fai tu il prezzo? Fai tu. Lei dice 230 euro, lui dice 235, 100, 100, comunque è il prezzo giusto, allora, 210 euro, 210 euro, ma è bello che loro hanno fatto i magnifici senza guardarlo, potete essere di brillanti che allora intanto guardate, tanto, che mi frega, paga mamma, sì, no, ma poteva essere di brillanti per quel che ne sapete voi, non è tanto grande, è per un posto 16, 17, si allarga, perché si allarga, è appunto, come vi dicevo io, come vi dicevo prima, perle naturali, poi, peridoto, ametista, oro giallo 18 carati, tutto oro e anche l'anima dentro, via grazie a 210 euro, anche questo per una signorina, signori, arrivo, per una signorina, questo è perfetto, vedete, non è impegnativo, ora voi sentite freddo e io vi capisco, tu dici, parli di estate e la gente dice, oh, l'estate, sì, prima o poi torna quest'estate, ora sì, fa freddino, freddino, fa freddo, poi tra poco arriverà l'estate, anzi, mi hanno detto, mi hanno detto che forse ha nevicato anche al sud, e dico forse perché un mio amico, Simone Pepe, la cui pasticceria sforna dei dolci pugliesi favolosi di Lecce, ha messo, mi ha mandato 5 milioni di foto sul fatto appunto della neve a, della neve a Lecce, vediamo un po', saluto tutti gli amici di Lecce, poi abbiamo questo, abbiamo zaffiri naturali, degli zirconi, il peso, siamo circa 6 grammi, 6, 12, 18, 170 euro la richiesta, dimmi, un abbraccio, un saluto all'amica di Viterbo, non è signora di Viterbo, è l'amica di Viterbo, è una persona a cui sono molto affezionato, io giuro, non c'è stata mai una volta in cui non mi abbia, ho prenotato, ho chiamato per fare i complimenti per i saluti, 170 euro, l'incassatura è a? Eh Johnny, l'incassatura è a? Binario, bravo, binario, ho visto che hai il proprio suo potere la lingua, via grazie, via grazie, via grazie, anche questo signori, al dito, anzi fai così Marco, guardate un po', ora voglio dire, a me non donna di certo, ma al dito, farà la scena di, vai un po' più distante Marco perché vorrei far vedere una cosa, dare l'idea del fatto che, guardate la scena che può fare al dito, non al mio per carità ci mancherebbe altro, un anello così, sembra un bel pavè di brillanti e zafferi, via grazie, via grazie, eh anche lui diceva, oh è proprio bello, qua mi chiamano da Brescia, cara amica o amico di Brescia, se mi sta chiamando adesso, io sono quello che è presente quindi non posso rispondere, allora, cos'era il lotto numero 9? Numero 9 era un anello, 5 grazie a me, 2 cento, 6 mazzolo, brava, brava, quando, allora, a me, qualcuno che sicuramente mi sta guardando perché io penso di essere l'unico che, infatti, voi non guarda, l'unico proprio, ma non perché chissà cosa penso degli altri, perché proprio a me le televendite mi annoiano, guardo me e già mi guardano tra virgolette malvolentieri perché devo per lavoro, però mi hanno insegnato che quando si fanno alcune, un certo tipo di proposte, mi hanno insegnato qualcuno, qualche anno fa, che è bello, che è bello quando tu fai una proposta così, quando ti chiamano una cliente affezionata, non la solita che magari resta lì appizzata davanti alla tv, cercando di fare per forza l'affare, no? E quindi sono contento, sono contento, poi, vediamo un po', facciamo così, voglio farvi vedere questi due orologini, gli orologiini, 38 i grammi, anzi, aspetta, sì, è qua, 38 i grammi, è un carica manuale, è uno zenith da donna, vi dico la misura, vi dico la misura, 19 circa i centimetri, 38 i grammi ho detto, giusto? Allora, aspetta un po', Marco, facciamo così, zenith, zenith, naturalmente carica manuale, e fammi, non c'è la calcolatrice lì, vero? Fai 38 per 29? 1.102. 1.105, 1.102 euro, 1.100 euro, 1.090 euro, dai, un saluto a Emma, un saluto a Emma, un saluto a Emma, oh, bravo che ha chiamato, ah, ce l'ha fatta a trovare il canale, bene, 1.090 euro, vi dicevo, 19 circa il centimetro, un abbraccio, un saluto a Emma, che la trovate lei lì in via Sestri o qua in, o lì in via San Vincenzo, poi, Lucia, Lucia, un forte abbraccio, un forte abbraccio amica mia, guardate che bello questo, con la sua chiusura, e poi qua ha le, Marco scusami, aiutami anche tu, ha la scaletta, bene, 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 un po' più distante Marco, per favore, vediamo un po', questo è quanto, per quanto riguarda l'orologio via Grazie, 1.090 euro, 38 i grammi, 38 i grammi, poi, rimanendo in tema di orologi, questo è un pochino, il bracciale è un pochino più segnato, vediamo un po', tenete conto, anche questo, mi fai per 29? Questo è sempre uno Zenit, Zenit carica manuale, più piccolino, più piccolino, meno, prego, ma anche te non lo sai a memoria? 26? Bene, cliente nuova, bravo, viene il sabato? Ah, è la cliente che mi ha chiamato ora al cellulare, può essere? Il lotto è l'11 qui, ok, dicevi? 7,60, 7,50, quindi viene a 28,9 al grammo, 7,50 abbiamo detto? Vai, andiamo a vedere, 7,50, Zenit, carica manuale, il quadrante, come è, per carità signori, ora non voglio dire, è ancora in orario, ma pensate, ho dato la carica ieri mattina, uno, l'altro era scarico ormai, questo invece è ancora carico, anche, eh? Ah, se volete, abbiamo poi anche il quadrante che si aggiunge qualcosina in più e va bene, allora, 18 i carati, quanto ha detto di peso tesoro? 26 grammi, Marco, mettimelo per favore, perché ha 28,80 euro al grammo, ha 28,80 grammo, via, 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 eh, infatti, via, che lotto era questo qua? Bene, allora, il 13, quindi era? Brava, ma come sei sul pezzo oggi, preghi te oggi, poi, basta, perché sei ricaricata con le vacanze, invece Tania neanche questa volta qua, l'abbiamo, che diceva che poteva essere più fresca, magari per una volta, no. Ah, a proposito, mi è arrivato il biglietto adesso, dove c'è scritto, finalmente delle belle mani, non come quelle di Tania, chi è questa cliente che ha chiamato, ha detto così? Dai, non scherzo, dimmi una cliente di trento, non lo so, ma ragazzi, è veloce. Orologi da tasca, sì, ho un patefilipe che alla fine del mondo lo faccio vedere. Allora, 26 grammi, 920 euro alla richiesta. Andiamo qua, Marco. Allora, con le borsette, una è neutra, questa qua, così potete metterla, le borsette che si possono mettere con qualsiasi cosa, poi c'è quell'altra con gli smalti rosa, poi c'è quell'altra di nuovo neutra, poi c'è di nuovo quella con gli smalti, smalti, è verde acqua, turchese, antico, poi c'è l'altra ancora neutra, e poi c'è quella con gli smalti in bianco, in bianco, con le stelline, sembra un po' la Louis Vuitton. 26 il numero dell'otto, scusate, i grammi dell'otto, del bracciale, quindi c'è il numero dell'otto, 920 euro la richiesta. Tenete conto che qua c'è un rollò che vale già molto più della cifra che noi stiamo chiedendo per tutto il bracciale. Questo l'ho riesumato, perché l'avevo messo da parte, l'ho riesumato per quelle due amiche di Savona, quelle due amiche di Savona che poi non ho più sentito, avevamo preso l'orologio, spero che ne siano state contente e felici, ho detto un giorno che ti capita un bracciale con i ciondoli dillo, via grazie il 15, quindi 920 euro questo, costa un pochino di più, però signori tenete conto che costa molto meno rispetto ad altre parti, perché se voi prendete me come esempio, me o alcuni altri, perché non è che questo voglia dire, o me, e pochi, no alcuni, pochi altri, perché fare, dire il peso, la caratura e la cifra potrebbero essere buoni tutti, ma rispettare realmente quello che si dice, cioè che è veramente 18, che è veramente 26 grammi e che è veramente quella misura, che è veramente quel tipo di bracciale, è ben diverso, è ben diverso. Poi facciamo così, ancora due o tre cose un pochino più piccole, perché mi mi fa l'ale segno dei bracciali, probabilmente, probabilmente lo fa per sé, non so se ha avuto la richiesta o lo fa per sé. Come? Quello l'ale piaceva, sappiatelo, quello l'ale piaceva. Ora che abbiamo questa interessantissima nozione, io sarà il primo che faccio vedere poi dopo, così lo vendo e non le piace più. Vediamo un po'. Topazio, topazio naturale, taglio? Uno taglia Olanda, uno taglio Briolet, taglio tondo, è un po' similare al brillante, oro giallo 18 carati, quattro castoni, gabbia, la richiesta per 11 grammi, 330 euro. E ditemi voi, allora, se voi avete la montatura così e non avete la pietra, e dite, Cristian, andiamo a comprare la pietra. Sì, avete da fare un mutuo? Avete qualcosa da lasciare in garanzia? Perché una pietra così, sapete cosa costa? Però, comprando su un oggetto vecchio o antico, o comunque da rigenerare, naturalmente noi riusciamo a strappare un altro prezzo e a voi facciamo un altro prezzo. C'era, e non sto scherzando, cercatori di pietre su Real Time, l'ha visto io e te forse una volta, con i topazzi da 2, 3.000, 4.000 euro a carato, ok? Topazzi da 2, 3, 4.000, i topazzi hanno tutto un loro mercato, signori, poi mi dispiace questa la dittata, però 330 euro, oro 18 carati, la pietra è molto bella, via, grazie, pensate qua al doppio castone, vedete qua tutta la gabbia, vabbè, lasciamo perdere, dai, via, grazie, via, via, non sto qua a farli in monitore, l'hotel 16, 330 euro, è molto poco rispetto a quello che dovrebbe essere il prezzo di mercato, intanto ancora un caro saluto all'amico di Regimiglia, perché prima quando l'ho salutato non mi poteva vedere, perché non trovava sto benedetto canale 165, problema che tanti stanno riscontrando, mia madre per prima che abita, abiti due metri da qua, cosa ci dobbiamo fare? Gli orecchini, Nouvelle Bug, 12 grammi, andiamo a vedere. Nouvelle Bug, 12 grammi, smalti, 420 euro, signori, 420, ma 400 euro, dai, 400 euro Nouvelle Bug, qua, ora sono solo da pulire, c'è la N e la B con i punzoni fiorentini appunto di quello che è uno dei marchi per quanto riguarda gli smalti più famoso, uno dei marchi più famosi al mondo. Vediamo un po', vediamo un po', questo orecchino di forma? Ovale, bene, a fine anno non saprete magari niente di gioielleria, voi due, ma tanto di geometria, brava l'Alemia, anche, sì, sì, allora abbiamo anche il bracciale, voi mi dite, a 400 euro un orecchino mi sembra giusto Nouvelle Bug, perché poi lo compro in negozio a 4.000, io vi dico sì, ma a 400 noi vi diamo anche l'altro, anche l'altro signori, guardate la bellezza, guardate la ricercatezza, la finezza, la raffinatezza, via grazie, via grazie, via grazie, voi immaginatevi con questi, ad avere finalmente un oggetto, un gioiello, se non rispondete, ecco grazie, lo davo per scontato però, allora dicevo, vedete, Allora, la bellezza di poter avere degli orecchini firmati ha un prezzo veramente molto, molto, molto basso, poi i smalti, gli oggetti con gli smalti sono sempre quelli che costano di più, sempre più belli, poi vediamo un po', teniamo un po', che la volevano? Non te lo faccio il prezzo che vuoi te, non ci provare, non fargli squilli che poi richiedi pensando che se non c'è la richiesta di te lo giù il prezzo, non lo faccio, qual era quello che ti piaceva di più? Non te lo dico. Dimmi quello che ti piaceva di più, peccato ma l'avessi detto oggi te l'avrei regalato, ma ormai è tardi. Vediamo un po', qua abbiamo questo signore, ha una sua fibbia molto, molto, molto carina, oro giallo, 18 carati naturalmente, oggi ce l'abbiamo fatta, è di Vicenza, un bracciale vicentino, scaletta tripla dall'altra parte, appunto dalla parte opposta, andiamo a vedere questo. Ora, aspetta Marco un secondo, torna su di me per favore, vi dirò prima la misura, perché ripeto, essendo oggi da solo, e spero che sia la prossima volta di essere appunto insieme a lei, 21 circa centimetri, poco meno. Andiamo a vedere questo bracciale, ora ve lo faccio vedere così, 21 circa i centimetri, dico a lei che non voglio mai che si veda, 50, vediamo un po', 57 e mezzo i grammi, 57 e mezzo i grammi, vedete appunto questa fibbia di cui vi parlavo poc'anzi, qua abbiamo la fibbia, tutto lavorato, lavorato finemente a mano, vediamo un attimo cosa si può fare, 57 e mezzo, andiamo a vedere, anzi facciamo così, guardate, lo mettiamo così, oh non è il massimo, io non amo presentare così gli oggetti, sono di quelli che per me la signorina ci deve essere sempre, oggi ripeto, l'abbiamo lasciata ai box perché fanno i giovani, fanno i giovani, poi sono fermi a letto, fra febbre, mal di schiena e chi più ne ha più ne metta. Vediamo un attimo, vediamo un secondo, questo appunto è, quanti grammi ho detto? Brava, sei prontissima. 2050 euro la richiesta, 2050 euro a 30 e qualcosa, 34, 35, non lo so, 2050 euro, tenuto comunque molto bene ed è il bello di queste chiusure che sono a scomparsa, mi piace sempre il discorso della chiusura scomparsa, mi dà sempre l'idea che sia un bracciale fatto, o una collana, fatta in maniera molto differente, fatta veramente in maniera certosina, in maniera certosina. Questo è il bracciale, è venuto di misura 21 cm, oltretutto, quantomeno a mio avviso, poi voi mi direte, voi che siete signore, te compreso, mi direte qual è la realtà dei fatti, però a vederlo così mi sembra anche che non sia impegnativo, giusto, che sono giatto, che se volete metterlo per portare il bimbo a scuola, lo si può indossare per portare appunto il bimbo a scuola, giusto? Giusto. Oh, bene, quindi, da richiesta per questo è di? 2.050 euro. Oh, bene, 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 tu lo comprereste a 2.050 euro? Via, grazie, sì, e te che spendi 2.050 euro, proprio guarda, via, 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 grazie. E' più facile che io te ne regali uno, che te che spendi 2.050 euro, anche da un'altra parte, per qualsiasi tipo di cosa. Prova ne è la sua macchina. Prova ne è la sua macchina, che è tutta sgangherata, brutta, maltenuta, e ora che c'è Arturo è anche un piumino di peli, e lei da qua dice, beh, però poi alla fine è sempre carina, eh, guarda, eh, guarda. La gente è così, quando ci fermi a dire, vendimela. No, è invecchiata con te, non è cresciuta, con te è diverso. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Bravo, l'hai dieta anche tu. Eh, ne prenderei subito un'altra, magari mi prenderei la sua, che è troppo più bella. Vediamo un po', un carato di brillanti, tre carati e ottanta di zafferi, sette i grammi, mille, quattrocento, ottanta euro la richiesta, mille, quattroottanta. Questo è un evergreen, uno di quelli, di quei bracciali, che piacciono, scusate, di quegli anelli, che vanno sempre di moda, sempre. Purtroppo adesso, vedendolo così e con lo sfondo nero, signori, qua sembra che sia un onice. Non è assolutamente così. Ve lo posso garantire. Oggi, vi ripeto, mi torni un attimo su di me, Mario, sì, Marco, per favore. Oggi vi ripeto, purtroppo, come si vede la TV, per chi la vede, perché già Gautra ha chiamato di cena, appunto, non lo, prego, sembra scuro, esatto. Quanto meno, in questo, in questo monitor, poi nel vostro mi dite lo stesso, peccato, mille e quattroottanta, io vi dico, doppio giro di brillanti, ma anche fosse scuro. Vedete che qualche riflesso azzurro lo si vede. Purtroppo, purtroppo, signori, ribadisco, tutto ciò che è visto in TV, tenete conto che se già vi può interessare la TV, molto probabilmente, e molto, 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 probabilmente, vi piacerà anche dal vivo. Mila e quattroottanta, vi piacerà di più dal vivo. Un carato ottanta di... Brillanti. Un carato di brillanti. No, ho detto un carato di brillanti e tre e ottanta di zaffero. Va bene, dai, l'ora, diciotto carati, sette sono i grammi. Mi dispiace che questo bellissimo, grazie Marco, questo bellissimo doppio contorno, via grazie, non renda, no, dicevo, grazie per avervi... per aver cambiato la caratura. Mi dispiace che questo bellissimo anello, doppio contorno, non renda quanto dovrebbe in TV. Era il 19? Oh, non ce l'hai, non ho saltato un lotto. Allora è colpa la sua. La colpa è la sua. Vediamo un po', dai, qualcosa di stosso e sostanzioso. Vediamo, dai. Patè e Filippo, oro rosa, diciotto carati, con la sua scatola da mettere a posto, con la sua scatola da mettere a posto, Patè e Filippo, oro, diciotto carati, andiamo a vedere quello che è uno degli oggetti più belli che si sono entrati qua da noi, qua, va bene, si sono arrivati da noi in negozio, Patè e Filippo con la sua scatola da mettere a posto, ribadisco, ripeto, Patè e Filippo, qua, qua, Osman, vediamo un po', Patè e Filippo, Genève, oro rosa, fatta appunto per la famiglia romana, per la famiglia romana a Roma, signori, dicevo, di quella dell'Osman appunto, io, vabbè, dico Osman, magari a Osman, si dice Osman e basta, questo ha, c'ha un piccolo museo degli orologi, a nome di questa famiglia, c'ha un piccolo, a Roma, un piccolo, c'ha un museo degli orologi, l'oro è rosa, qua non si vede benissimo, ma l'oro garantisco che è rosa, oh, bene, qua già rende di più, prima o poi capirò il senso appunto della TV, dove ti sposti da una parte e vai dall'altra, bene, allora, le lancette a freccia così, in oro rosa, così come il quadrante, così come i rose quadrante, così come gli indici in oro rosa, poi, abbiamo un carico manuale naturalmente, quasi un ultra piatto, comunque molto sottile, la catena, ripeto, la scatola, che è solo da mettere un po' a posto, la richiesta è di 3.500 euro, 3.000 da 4 e 3, poi siamo passati a 3.8, oggi 3.500, voglio fare, voglio far fare, questo affare a qualcuno di voi, io voglio monetizzare, monetizzare 3.500, Patè Filippo, lotto numero 20, via, grazie, via, grazie, ringrazio tanto il cliente dell'altro giorno, che mi ha chiamato l'altro giorno dopo Natale, quando ho detto, sono andato un po' meno veloce, ma sono fatta con comodo, per me, una, una televendita, è una rassegna, è come fare un giro virtuale, in una gioielleria, cioè, quando vai a fare una gioielleria, io penso che, dubito che facciate così e usciate, no? Nel senso, un gioiello si deve presentare, secondo me, nella determinata maniera, poi quello da 50 euro, magari dici, stai, mezzo minuto, quello da 5.000, ci devi stare, ci devi, dovresti starci 5 minuti, quindi cosa succede? L'altro giorno il cliente mi dice, sai, hai ragione te, perché io ti dico sempre di andare più veloce, poi in effetti l'altro giorno guardavo uno che andava veloce, sembrava più un bazar, che una televendita, detto questo, detto questo, però i gusti sono gusti, 1R la firma, Giada la pietra centrale, 26 i grammi, 26, un cogliere fatto a fettuccio, una doppia fettuccia, questo qua è un espositore, quella è una mano, e quello è un cogliere, perfetto, perfetto, Marco, facciamo così, no, andiamo un po' più in quanto, un po' più in qua, un po' più in qua, bene, oh, vediamo, quella abbiamo detto che è? Brava, 790 euro la richiesta, la Giada è, Cabochon, ovale, 1R, 26 grammi, 790 euro la richiesta, per questa doppia, tripla, no, doppia fettuccia, la chiusura, la chiusura, tra un po' andremo a farvela vedere, la chiusura, se mi va indietro Marco, bravo, vediamo, bravo, te lo stavo per chiedere, grazie, vediamo la chiusura, qua anche, diciamo, una sorta di scomparsa, doppio fettuccia, poi, il lottino di sicurezza, torniamo sulla collana, per favore Marco, torniamo sulla collana, ok, sposto questi, vediamo appunto, la parte centrale, questa sarebbe da vedere, non addosso a te, che ti sta male la giada, tesoro, la giada ti sta male, quanto mi dai da collana? 300, 300, ti sta malissimo, non male, 300 sei il peggio della signora di Bari, è un barattolo di pesto, è anche una slurfa, di focaccia mia, vediamo dai, 790 euro, via grazie, via grazie al 21, passiamo al 22, vediamo ad andare un pochino più, un pochino più veloci, era al 21, al 20 cos'era tesoro? Ok, vediamo ad andare al 23, no, 22, scusatemi, 22, mi è stato richiesto un bracciale, di quelli seri, io ho già ne ho fatto vedere uno prima, ora ne faccio vedere un altro, quei tre ori arrivano, perché, ha chiamato, cara amica dei tre ori, abbia pazienza, tra poco arriverà subito, l'oggetto che lei vuol vedere, le faccio anche una parola, le faccio anche una sorta di offerta, vediamo qua, vediamo un po', qua abbiamo questo, lo passo per l'amica, amica, perché ci sono scritti anche Natale, ci sono scritti i messaggi, e poi mi ha fatto i complimenti, a me quando fanno i complimenti, vado in brodo di giugiole, allora, 4 centimetri per, di larghezza, per quasi 20, 19 e mezzo, vediamo il peso, il peso, perché qui ho il cartello, ho il cartello sbagliato, 90 grammi e mezzo, andiamo a vedere i timbri, vediamo un attimo i timbri di questo, 7,50, è un timbro comunque antico, vediamo un po', eh, qua si vede poco, si vede poco, vediamo un attimo, abbiamo questo bracciale, questo bracciale, la bellezza di questo bracciale, secondo me, sta quasi tutta, a parte nella maglia lavorata, che è una lavorazione molto, molto, molto bella e particolare, ma sta in questa sorta di fibbia, questa fibbia, vedete che ora qua, la chiusura è la classica, vediamo, maschio-femmina, qua vedete appunto i timbri della ditta, maschio-femmina, una volta chiuso, si chiude anche qua la fibbia, e vediamo, vediamo, quanto possa essere bello, questa chiusura, questo modo di chiudere questo bracciale, bracciale grande, bello, consistente, signori, allora 90 grammi e mezzo, vado a vedere, vado a vedere quanto è stato, grazie mille del caffè, l'ultimo passaggio, facciamo così, facciamo così, vediamo un po', dato che qua c'era la richiesta, l'ho portata appunto per quell'amica, ma anche per tutte voi che volete vedere questo, intendiamoci, però c'è stata appunto la richiesta della signora, che mi dice, sai, me lo fai rivedere, perché mi piacerebbe che me lo spedissi, vediamo un attimo, sono 90 grammi e mezzo, l'ho fatto vedere a 3690.5, e viene a 39,60, facciamo così, quanto si può fare, vediamo un attimo, a 3490, vediamo un po', 3490 diviso appunto il 90 e mezzo, viene 38 euro al grammo, allora, cara amica, io le ho fatto lo sconto che lei mi ha chiesto, io vi dico, le dico e vi dico questo, che questi qua sono oggetti che vi capiteranno poche volte nella vita, perché? Perché gli oggetti fatti adesso, cose belle, ne trovate per carità, ma gli oggetti d'epoca, di anni venti, come questo, tenuto così in questo modo, maniacale, perché qua signore è stato tenuto in maniera maniacale, me lo fai vedere bravo, mi fai vedere lì così, vedete la parte laterale del bracciale, guardate, tenete conto sempre, dovreste in teoria guardare i particolari, perché i piccoli particolari sono quelli che fanno capire qual è stata la cura usata nel produrre, nel fare un oggetto, un gioiello, una piccola opera d'arte, è un piccolo capolavoro, questo è un piccolo capolavoro, non è un semplice bracciale signori, questo qua è un bracciale di quelli, che segna, è un bracciale di quelli, che non lascia così, che vedi e dici, sì vabbè è carino, no, è una cosa bella, è una cosa che si nota, è una cosa, è qua, comunque a 38 euro al grammo, contando che l'oro adesso sta di nuovo salendo, a 38 euro al grammo, è un bellissimo modo per mettere i soldi da parte, assolutamente, sentitevi un attimo per favore, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, tanto non era questo quello che ti piaceva, giusto? Cioè questo ti piace, ma non era questo che ti interessava, giusto? Vieni qua, giù, giù, guardate, questi sono belli, quando avete il polso come lei, anche da tenere, lo diceva la cara amica, anzi, se fossero presenti all'ascolto, ma oggi dubito, perché non lo sapevano, mi sa, perché ho cercato il numero, ma non ce l'avevo, le due amiche, attenta che c'è da TV, le due amiche di Chiavari, anche loro hanno preso un baciole un po' più grande, dico, pensi un po' in estate, quando si tira su la maglietta, qua lo può lasciare anche all'avambraccio, sta molto bene lo stesso, e qua magari impreziosirlo con un altro braccialetto, giusto? ma non è il tuo caso, non è il tuo caso, carale, non è il tuo caso, e facciamo qua, così, lo togliamo prima che lei se ne innamori, toglie pure il braccio che non volevi togliere, bene signori, ora, grazie mille a lei che ha fatto da manista, via grazie, il 22, 3.490, io questo lo tengo da parte, Rolex, mi chiedono degli errori, ah ok, via, grazie, via grazie, poi, vediamo un attimo, Marco, grazie mille, vediamo un attimo, a 3.490, cara amica della Sardegna, io lo sconto, io l'ho fatto, poi, veda lei, se è il caso, le caratteristiche ora le avrà riviste, spero, quella signora della Sardegna, pensate, ma era il 22? Pensate che ha preso da noi degli oggetti, ha mandato, sì, ha mandato il, gli acconti, tutti gli acconti, ha pagato a fine dicembre, ma ha detto, guarda, spediscimelo tranquillamente a metà gennaio, ci risentiamo quando inizia l'anno, perché sono in vacanza, voi pensate la fiducia che a volte la gente rimpone in altre persone pur non conoscendole, e questo mi fa veramente un piacere che io non vi sto neanche a dire, detto questo, questo è un orologio, è un Lawrence, è al quarzo, un day date, al quarzo day date, tutto in oro, 18 carati, andiamo a vedere questo, è 790 euro, al quarzo, in oro, 18 carati, tenuto magnificamente, 790 euro, un Lawrence, il quadrante bianco, è così fatto, ha una sua particolarità, molto molto bella, che è, tipo, tu che sei più vecchietto, qual è la sua particolarità, per cosa è comodo, mettiamola così, la Ale, da brava secchiona, ha alzato la mano e fa, perché ci vede poco, perché? Perché è un quadrante bianco, con lancette oro, 18 carati, e, indici in oro, 18 carati, marca, appunto, alle ore 12, dove abbiamo il giorno, poi, data alle ore 3, a 790 da comprare, punto, via, grazie, poi, due siete come i cosi, delle barzellette, non dico cosa, ma siete come i cosi, delle barzellette, in due, vediamo un po', il Rolex, abbiamo, questo Rolex, la garanzia, l'ho lasciata, mi sembra, in negozio, si chiama, non è, un semplicissimo, ghiera verde, non semplicissimo, non è un semplice, ghiera verde, tanto il suo, il suo controscatolo, non è un semplice, ghiera verde, questo è un, come si chiama, o Hulk, come, Hulk, come Hulk, come l'incredibile Hulk, quello del telefilm, giusto? Perché si chiama Hulk? Che è tutto bene? Oh, chi l'ha detto? Sei. Vediamo un po', sì, Hulk, lo chiamano Hulk, poi non so se, la, 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 ok, la scatola l'ho giù, la, scusate, la garanzia, questo è l'orologio, 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 ho fatto io, la sciocchezza di usarlo, e ho fatto una riga o due, ma leggera, per carità, sul, ehm, sì, sul quadrante, sul bracciale, è soltanto, c'è soltanto da dargli una piccola ripassata, poi per il resto, Marco, mi vieni su, grazie, per il resto direi che del 2014 tutto originale a 7700 euro lo si possa comprare, praticamente mai usato, ho fatto io la sciocchezza ribadisco di usarlo e ho fatto quelle due righete, ma due righete normalissime che si fanno giocando magari col cane, giocando, mi torni un attimo su di me Marco per favore, giocando magari tranquillamente così, io dicevo, qua vedete che, poi quando ho visto così, allora me lo sono tolto, tanto ribadisco, vi dovesse piacere, io ve lo faccio lucidare, mettere come nuovo, per me è molto bello, non è il mio modello, vi dico, io sono sempre più per gli oggetti vintage, a me gli oggetti vintage sono sempre quelli che, scusate, sempre quelli che mi piacciono di più, però se vado sul nuovo, mi piace il vintage perché è più particolare, se vado sul nuovo sono ben felice di non dare soggetti così particolari, tu l'abbè mai visto quel quadrante verde? Parlo con te, l'abbè mai visto quel quadrante verde? No. E col quadrante nero? Eh ma l'abbiamo visto. E col quadrante giallo? No. Non esiste, non questo, bene, Rolex, Hulk, Submariner, Ghiera Verde, Quadrante Verde, via, grazie, automatico, scatola e garanzia, anzi Marco, mi ci fai un attimo per favore, un secondo, solo una ripresa senza quadrato, perché poi quando faccio una televendita, metto sulla televendita su internet, faccio lo screenshot di questa immagine, un pochino più distante, un pochino più distante, un pochino, grazie mille, grazie mille, via, grazie, da chi? Di dove? Tipo? Non gliel'hai chiesto perché? E' la nostra amica. E' tu così amica che non sai neanche dove abita? Poi, vediamo, aveva detto dei tre ori, giusto? Sì. Cara amica dei tre ori, abbiamo questa, è? Vi dico indicativamente la misura, se trovo il coso, perfetto. Vediamo un attimo, 42 centimetri, 42 centimetri, oro rosa, oro bianco, oro giallo, vi direte, hai detto dei tre ori, come poteva essere, c'è anche il verde, anzi, a proposito del verde, dopo un bel oggetto sforza, vediamo un attimo, sul collo, purtroppo, c'è su questo collo, purtroppo non sta come dovrebbe, non sta come dovrebbe, vediamo qua, ecco qua, vediamo la collana, oro bianco, oro giallo, oro rosa, la richiesta signori, 50 grammi circa, meno, 48 circa, ma mette 50, dai, vediamo un po' la richiesta, 1850 euro, la richiesta, 1850, fai così, 1790 euro, a 1790 signori, da prendere subitissimissimamente, a scalare, bella, a scalare, con i tre ori, abbiamo appunto, la parte centrale, grazie, abbiamo oro giallo, oro rosa, oro bianco, l'oro giallo, oro rosa, oro bianco, su, no no, vinimi sulla centrale, per favore Marco, abbiamo qua, la parte brillantata, oppure, satinata, bravo, poi liscio, poi lavorato, intersiato, a mano, e poi di nuovo liscio, qua dal collo, per essere più comodo, più sicuro, perché non punga, perché non faccia male, perché non irriti, 42 centimetri, 50 grammi, meno, se non 48, via, grazie il 26, e io vi dico, vi è piaciuta questa? Intanto vi dico, chiamateci, noi veniamo da voi gratuitamente, senza spese di consegna, assolutamente, in più, se non vi piace l'oggiato, lo riportiamo indietro, non è un problema, certo, non ci fa piacere non vendere, ma al tempo stesso, capiamo perfettamente, che visto in tv, magari l'oggiato può sembrare più grande, più piccolo, più bello, no, perché solitamente in tv sembra più brutto, e quando veniamo è più bello, poi può anche essere quello che non cercavate, però che non sia più bello che visto in tv, quello non ci credo, comunque, allora vediamo, 1790 questo, giusto? Poi, subito dopo, sempre per rimanere in tema, sempre per rimanere in tema di, oro, rosa, bianco e giallo, scusate, io ho questo, siamo circa, facciamo così, fai 57 grammi, 57 grammi, 1.950, 57 grammi, vi dico la misura, oro rosa, oro bianco, oro giallo, io vi dico la misura, però trovo il, bravo, 25, 19,5 cm, e la larghezza sarà circa 2,5 cm, vediamo un po', oro rosa, oro giallo, oro bianco, 57 grammi, eccoci qua, ma guardate la bellezza di questo, 57 grammi, naturalmente vi piacesse anche la collana, che va quasi a parure, essendo appunto quei tre colori dell'oro, che va quasi a parure, vi piacesse anche la collana, naturalmente vi verrà fatto lo sconto, qua siamo a 1950, 27 è il numero dell'otto, vediamo un po', 1950, signori, qua abbiamo i tre colori dell'oro, una lavorazione fatta a mano, in oggetti così, anni 30, signori, non li facevano a macchina, non li facevano in fabbrica, non li facevano a tiratura, a chilometraggio, lo sapete che viene chiamato a metraggio, l'oro, le collane 3 più 1, 4 più 1, 4 più 2, perché? Perché la macchina fa quel tipo di lavorazione, lo tira e li fa a metro veramente, e ogni 60 centimetri c'è una macchina che taglia, un'altra che viene lì, che salda, quell'altra che assembla, ed ecco lì che il vostro oggetto è stato fatto da, che non ci nitri male, perché è da una macchina, ma volete mettere la bellezza invece di un oggetto fatto a mano? Volete mettere l'esclusività? Ma avete mai provato l'ebbrezza? Io solo una volta, l'ebbrezza di un abito fatto a mano, tu hai mai provato un abito fatto a mano? Ah, tu, ecco, ok, e tu l'hai mai provato? Niente, da che a me non c'è una... Io l'ho provato solo una volta, quando ti... è tutta un'altra cosa, il lavoro è tutta un'altra cosa, non ci sono storie, e quando vi vedono al polso un bracciale così, signore, care e signore mie, alla fine, care amiche, alla fine, la differenza la si nota, la differenza la vedi, non ci sono storie, quando lo indossi, quando lo senti, quando lo tocchi, la differenza la vedi tutta, non mi ci stai troppo attaccato Marco, se no andiamo lì, per favore, se no, bravo, così, se no andiamo l'idea di quello che ha realmente, io vi dico, senza trucco e senza alcun tipo di inganno, qua abbiamo un bracciale di quelli che come pochi se ne vedono, poi, via, grazie, poi, va a gusti, perché non dico che vi deve piacere per forza, però se vi intendete di oro, non potete non pensare che sono già fatto veramente bene, veramente con tutti i crismi, fatto veramente in maniera seriosa, era il numero 24? 26. 26? E il 25 era? La collana? E il 24? Ah, ecco perché non li ho messi, ah, credevo, peccato che non ci sia il signor Silvestro, perché, voglio far vedere questo, è un Omega Deville, acciaio, carica manuale, andiamo a vedere, il quadrante potrebbe essere in porcellana, non lo so, non vi voglio dire una sciocchezza, ma facciamo di no così, mi tolgo da tutto quanto, quando, ah, io pensavo a qualcosa di più, allora la faccio un po' meno, eh, bravo, allora vi dico questo, quando è entrato il cliente con questo, allora, questo per le mani, ora tu sei orafo, però, ti piacciono, però ti piacciono gli orologi, eh, l'ho rovinato il quadrante, ve lo dico prima, allora, quando agitava questo orologio, vedendolo così da distante, secondo te cosa pensavo che fosse? Bravo, esatto, pensavo che fosse proprio quello, una grande, grande, grande marca, ok? Poi si è fermato, e ho visto che è sempre una grande marca, non ha i livelli di Piaget, o Paté Philippe, però è un orologio molto bello, con questa forma, la richiesta, signori, un carica manuale, 300 euro soltanto, soltanto, 300 euro, e perché c'è quel, perché è rovinato lì alle ore 3 sul quadrante, se no, signori, cosa hanno fatto? Vabbè, poi me lo dici, questo, signori, vi dicevo, perché è quello che è segnato lì, perché se no, altrimenti un orologio così, meno di 600, io non ve lo davo, acciaio, via, poi non mi venga così, ma era il 28 all'8, ecco, bravi, diamocelo un occhio, già che non, già che riceviamo poche telefonate, almeno stiamo un po' piattini, poi se avessimo da esplodere, come magari, nelle ultime 2-3 tv, lo posso anche capire, poi qua, cos'è? Vabbè, vorrei vedere, il Deville è comunque uno dei, dei più conosciuti, quando tu dici a uno che, assaggia orologi, e dici, però un bel Deville, comunque il suono è differente, vediamo un po', c'è la signora degli oggetti antichi, 8 cm, questo potrebbe essere, andiamo a vedere Marco, ci sei o mi devo spostare io? Questo potrebbe essere, questo potrebbe essere, 22 carati, non mi mettere oro a 18, oro a 21, oro a 22, perché secondo me è oro più alto, però, tenete conto che io lo calcolo come oro a 18, qua, non mi chiedete del peso, nel senso, non pensate che io vada in, a peso, è oro, io presumo sia 21 o 22, non ho voluto fare la prova, per non dovervi chiedere, ben di più di quello che mi ero già prefisso, di dover mandarvi, questo è un micro mosaico, se Marco ce la fai, da andare un po' più vicino, vedete, allora l'Alessandra, mi faccio vedere, mi dice, però che bel dipinto, dico, no no, guardalo bene, guarda che è un po' cecata, un po' talpetta, ho voluto dare il, la lente, vedendo, con la lente si è resa conto, che è un micro mosaico, signori, un micro mosaico così, di questo splendore, di questa caratura, perché parliamo di un qualcosa, di veramente speciale, con i suoi pendagli occhi, un oggetto, fatto tra le 7 e l'8, signori, arrivato ai giorni nostri, ancora così, così in tonso, così perfetto, pensate a quello che ha visto, le guerre che ha passato, le maniche ha passato, eppure arriva ai giorni nostri, come se arrivasse, ai giorni nostri, qualcuno di 100, 150 anni, senza una ruga, senza niente, che sembra ancora un ragazzino, questa è la stessa identica cosa, guardate, questo micro mosaico, ha soldi 1.650 euro, signori, è un oggetto, che dovrebbe andare a 3.000, 3.500, 4.000, io sono certo, ve lo presentasse qualcuno, che fa quelle televendite, a livello nazionale, come anche noi lo facciamo, per carità, a livello nazionale, ma se venisse qualcuno di quelli, che si fa forte, di pagamenti rateali, e di tante belle chiacchiere, signori, che presentano quei 5, mettimi il prezzo Marco, per favore, 1.650, e l'828, Marco, ti prego, dai, già sono da solo, per favore, vi dicevo, venisse qualcuno di quelli, così, che fa tante belle, racconta di tante belle chiacchiere, gli imbonitori, da tv, ok, venisse uno di quelli, vi chiederebbe 5.000 euro, in virtù del fatto, che fa un pagamento rateale, e io non lo faccio rateale, non ve lo faccio in 5 anni, ma ve lo faccio in 4 mesi, che problema c'è, lo lasciamo di fermo, va bene, ve lo lascio fermo, questo come altre cose, ma 1.650, signori, se avete una vetrinetta, una vetrinetta dove poter far vedere, a chi viene da voi, potersi vantare, di oggetti, che lasciano il segno, questo deve entrare, nella vostra vetrinetta, e se ancora di più, ancora meglio, siete di quelli che osano, che mettono gli oggetti, che se li godono, a prescindere dalla bellezza, dal prezzo, dalla sostanza, o dalla delicatezza, dell'oggetto stesso, se siete fra quelli, dovreste prenderlo, io vi dico, cercate, chiamate, noi veniamo, ve lo facciamo vedere, ve lo facciamo vedere dal vivo, sono certo del fatto, che non possa non farvi innamorare, se siete amanti dell'epoca, poi, se siete persone, donne, amanti dell'oro, ma soltanto fo, pechimento, bulgheri, pomellato, si dicono, già, non fa per voi, non fa per voi, perché, perché è come prendere una macchina, degli anni 20, qualcosa da collezione, una Rolls Royce, anni 20, signori, ok, oppure prendersi un Ferrari adesso, la differenza è quella, qua avete una Bentley, una, perdonatemi, un Rolls Royce, di quelli da collezione, d'epoca, via, grazie, di quelli, che è uno di quegli oggetti, che ha ancora un gusto, una classe, che gli altri, si sognano, di oggetti, che potreste pagare anche 20 mila euro, che non hanno la classe di questo, ed è, ve lo metto per iscritto, tranquillamente, era l'828? Poi, questo lo lasciamo fuori, per il 29, prego, è un investimento, a proposito di oggetti da collezione, qua abbiamo una spilla sforza, la richiesta, vi dico intanto, che è bella spessa, ed è pesante, 7 centimetri, per 3 e mezzo, andiamo a vedere, un cavalluccio marino, la richiesta, 750 euro, 7 e 50, guardate, sì, brava, ha il brillantino, dall'occhio, ha il brillantino, dall'occhio, 750 euro, signori, è bella, è pesante, è consistente, firmata sforza, lavorata a mano, lavorata a mano, finalmente, finalmente, siamo stati ricontattati, dalla gentile cliente, che aveva, parecchi oggetti sforza, siamo stati ricontattati, da quella cliente, e c'è stato detto, che in settimana, potremmo, questa, la prossima, non sappiamo ancora, potremmo avere altri oggetti, finalmente, siamo stati ricontattati da lei, a Natale, poco prima, di fatto, ho anche un'altra collana, quella con i Buddha, se qualcuno chiamasse, ditemelo, che facciamo vedere, 7 e 50, via grazie, via grazie, via grazie, Fopero, era 29 questo? Sì, Fopero, sì, ne ho parlato apposta, e ci agganciamo, al volo, al volo, ci agganciamo, questo è il modello grande, lo spessore, signori, siamo, il diametro, in circa, a un centimetro, quindi è bello grande, un centimetro di Fopero, mai, 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 indossato, 2.200, no, andiamo a vederlo un attimo, ora poi vi dico anche la misura, Fopero, bravo, mai, indossato, i due terminali qua, dovrebbero essere bianchi, il resto è giallo, è Fopero, e vi faccio, vi dico il prezzo, quello che sarà, l'ultimissimo, vi faccio già quello scontatissimo, com'è fuori fa freddo? 2.150 euro, siamo ben oltre i 40 grammi, signori, ben oltre, 2.150, brava, un saluto la signora Maria Laura, di Torino, un abbraccio, un saluto, e grazie mille del messaggio, mi ha fatto proprio tanto, tanto, tanto piacere, scusi, l'ho visto solo adesso, questo è Fopero, questo è Fopero, questo è Fopero, è Fopero, in oro 18 carati, andiamo a vedere, andiamo a vedere, ben oltre, no, non mettermi il peso, Marco, per favore, non mettermi il peso, ben oltre i 40 grammi, questo è Fopero, e andiamo a vedere un attimo, se lo tendiamo, e lo stendiamo, vediamo un po', oh, ma tu a casa lo vedi il 165? Poi un giorno di questi, mi vedi se a casa lo vedi il 165? 165, questo qua è canale, perché mi ha chiamato un 2 prima, uno mi ha scritto qua, in più la mamma non vede neanche l'hai. Mercante d'oro buongiorno, buongiorno, la lunghezza, 21, 21, Fopero, 2150, 43, 45 grammi di Fopero, quanto lo vendono secondo te il negozio? A 4 mila, di più, sì, più di 100, euro al grammo, l'oro normale, ne costa 60-70, 80, eh sì, ma almeno, ma almeno, per cosa? Cavalluccio, ma no, ora glielo faccio rivedere, guardi, a modo di riguardarlo, niente, non ho, dai, guarda, devi prenotarlo, perché, via, senti, lo vede il tele, la tv? No, lo vedi, l'altro orecchio ce l'ha, è finto, è di cortesia l'altro orecchio, lo vede la tv? allora, la vede la tv adesso? la vede la tv adesso? Chiedi, no, la fai vedere da dietro per favore, vedete, vedete, ha il gambo, lo spillone, con lo spillone messo lì, all'estremità, fa da contromaglia, ok, vedete, infatti, viene fatto così appositamente, perché, lo spillone si apre di qua, di qua no, messo così da questa parte, dalla parte più alta, si può mettere come contromaglia, se no, se fosse fatto al contrario, non si potrebbe usare, questo è quanto per quanto riguarda Sforza, poi, fatti lasciare cognome e telefono, intanto non è, via, grazie, non è un problema, cos'era Sforza, 29? 29. perché non è poi un problema, nel caso in cui lo vedeste, non andasse bene per qualsiasi motivo, non c'è alcun tipo di problema, vediamo un attimo, vedi che le cose te le devi proprio sempre, poi, Sforza, non ha chiamato nessuno, dai, su, chiamate questo Sforza qua, dai, che ha, quanto ho detto più, 2.150, no, non chiamate meglio, 2.150 me lo tengo, giusto? Che poi un giorno, guarda, ah 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 ah, ah 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 ah, fai ricorda che c'è un bracciale giù, che ho scritto Alessandra, che me l'ha andato da fare, mi ha detto, guarda, non passarlo, perché lascia perdere, così l'ho lasciato giù nel dimenticatoio, in un angolino, non voglio rischiare assolutamente, che qualcuno, di nome Alessandra lo possa vedere, poi, poi vediamo un po', gli orecchini di passo, vediamo un po', questi orecchini qua, cari amiche, cari amici, un carato di brillanti F color, un carato, è un pavettino eh, però con un carato, ben carato di brillanti, poi, vediamo un po', ecco qua, un carato di brillanti, belli, un pavè, vedete, in parte dentro, tutto lavorato, poi ai lati, liscio, come i due binari, vedete lì appunto, poi, qua, fatti con la gabbia, per far filtrare la luce, per far sì che, la luce si veda meglio, 10 grammi e mezzo, un carato, F color, 830 euro, la richiesta, 830 euro soltanto, se tu, ecco qua, oh, grazie, sì, 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 vabbè, vediamo, famosa del famoso, parente del famoso, vediamo, la richiesta per questi, appunto, 830 euro, vi devo dire, la misura, vi devo dire, la misura, vediamo un attimo, la lunghezza, la lunghezza, siamo a, due centimetri e mezzo, due centimetri e sei, per, sette millimetri, quindi, belli, grandi, consistenti, 10 grammi e mezzo, li potete indossare, tranquillamente, vedete appunto, in oro, bianco, 18 carati, con brillanti, signori, vedete qua, la richiesta, 830, via, grazie per il 831, così passiamo al 32, per il 32, la rivisitazione, vediamo un secondo, la richiesta, ora lo facciamo rivedere, state tranquille, i bracciali, lo ripasso, abbiamo questo, cogliere, questo cogliere, signori, ero convinto, sarebbe stato uno dei primi, a essere prenotato, e poi eventualmente, anche venduto, l'altro giorno, mi ha chiamato una cliente, mi ha detto, mi dai la misura, la misura, per lei che, porta solo, oggetti belli, grandi, era un po' più difficile, da indossare, vi dico subito, è lungo, all'incirca, 45 centimetri, 46, che non sono pochi, però, a seconda appunto, delle vostre misure, vedete un po', se può fare a caso vostro, o meno, la richiesta, per questo, che è 50 grammi, era di, 1.990, 1.940, 1.940, per questo oggetto, in oro, tendente a rosso rosa, oro tendente a rosso rosa, anni 20, assolutamente, anni 20 questo, vedete un po', questo tipo di lavorazione, attento Marco, però, quando mi vai sull'oggetto, dai, allora, tanto più che tu lo vedi prima, vedete un po' questo qua, signori, abbiamo questo, che ha un collier, in oro rosa, 18 carati, in oro rosa, 18 carati, ecco, cerchiamo di metterlo un po' bene, cerchiamo di metterlo un po' bene, vedete questo qua, fatto maglia quadrata, rettangolare, molto particolare, tutto lavorato, luccicante, poi Marco, se mi vai sui dettagli, per favore, se mi vai sui dettagli, vedo appunto, questo tipo di lavorazione a barilotti, ma, rettangolari, e poi, su, 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 Marco, dai, oggi ti vedo molto spento, hai fatto il capodanno, hai festeggiato troppo, vedete un po', ecco qua, oppure i due figli non ti hanno fatto dormire, scendi giù, scendi giù, scendi giù, scendi giù, bene, 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 molto bello quella parte dove va a ricongiungersi, bene, ecco, tre, appunto, i tre elementi, i tre figli, che vanno poi, ah, bravo Marco, che vanno poi, ciao a tutti, che vanno poi, anzi, come quelli dati giù, ciao mamma, che vanno poi, eh, ma tanto non mi vede oggi, eh, vabbè, eh, via, grazie, dai, via, grazie, via, grazie, via, grazie, e poi, era il 32 questo? Sì, ora tra poco ti do, sei passato di là? Era ancora aperto? Poi, il bracciale nuvel bag, mi avevi detto, giusto? Ora mi dispiace per la cliente, chiedo scusa, cliente alla quale chiedo scusa, perché mi è stato richiesto all'incirca, 20 minuti fa, nuvel bag, oro bianco, 18 carati, con, con? Brava, e? Brava, Marco lo mettiamo, oh, a fuoco, secondo te è nuovo o usato? Nuovo. Ok, e a quanto lo facciamo vedere? Sì, gli altri 1000 ce li metti tu? Vediamo un attimo, dai, da 1500, che era l'altra volta, 1390, 1390, 1390, signori, se non fossero questi periodi di crisi, ma nuvel bag a 1390, se avessi una pubblicità su un giornale, non ve lo farei vedere per soldi 1390, neanche in pubblicità lo faremo vedere, e invece, adesso, visto appunto, che si vende un po' meno, visto appunto, che il momento è quello che ha, e non dobbiamo nasconderlo, non siamo solo noi, purtroppo, perché fossimo solo noi, dici, vabbè, sto sbagliando qualcosa, vedrò di rifarmi, no, assolutamente, ok, vediamo un attimo, la richiesta appunto, 1390 euro, brillanti, oro, smalti, nuvel bag, originale, garantito, via 1390, via l'833, così passiamo al 34, per il 34 abbiamo, vediamo un attimo, questa parure, abbiamo questa parure di perle, non la voleva? Abbiamo questa parure, con un brillante centrale, e un brillante nell'anello, che è di circa 0,40, 0,35, 0,40, poi abbiamo anche gli orecchini, sempre in oro bianco, 18 carati, andiamo a vedere quanto è la cifra, 750 euro la richiesta, 0,40, qua 0,37, qua, e un altro qua, 0,10 l'1, gli orecchini, la parure, la parure, signori, perle, perle Giappone, 7,8 mm, 7,5,8, perle Giappone, brillanti, la parure, 700 euro, la richiesta, per il lotto numero 34, giusto? Sì, giusto, 500, 700, fai 7, dai, fai 7, 50 euro, l'abbiamo tolti, i santi signori, fai 7, brillanti, brillanti, 0,77 di, eh no, 0,77, perché 0,37? Cosa ha scritto? No Marco, sono 0,60 in tutto, di brillanti, 0,60 in tutto circa, 0,57, 0,60 in tutto, oro bianco, 18 carati, 0,60, la parure, orecchini, anello, volete un contrarie? Ce ne sono ancora amanti del contrarie, perché il contrarie, fino a qualche anno fa, fino a qualche anno fa, mea, fino a qualche anno fa, il contrarie, era uno dei modelli più voluti, in assoluto, più ricercati, il 34, via, grazie, via, grazie, a 700 euro, e poi passiamo al 35, per il 35, a me fa specie che una parure così non venga presa, ora ti do, a me fa specie una parure che così non venga presa, abbiamo, vediamo qua, cosa posso farvi vedere, questo, questo è, a 14 carati, tutto brillantini, tutto diamantini, brillantini, 14 carati, sono 2,5 grammi, tutto brillantini, 75 euro la richiesta, 75 euro, praticamente a prezzo di costo, anzi, sotto costo, 75 euro la richiesta, signori, con brillantini, con brillantini, oro 14 carati, oro bianco, 14 carati, tutto lavorato, 2,5 grammi il peso, questa stella, brillanti, grammi 2,5, via, grazie al 35, adesso, mi è stata chiesta la rivisitazione, così poi possiamo, passare con il, andare avanti col resto, possiamo andare avanti col resto, vediamo un po', questo lo tengo qua, questo lo tengo qua, ok, allora, il 30, il 30, ditemi, Fope, 2150, Fope, più di 40 grammi, ben più di 40 grammi, ricordo il Fope andrà a 150, 200 euro al grammo, adesso, questo è più di 40 grammi di peso, 43 grammi circa, ora non mi ricordo, o 45, poi lo vedremo, Fope, oro bianco, anzi, oro giallo, 18 caratti, Fope, tutti i timbri, vedete la firma per esteso, 21, 22 centimetri, un centimetro di diametro, quindi, il modello, quello grande, quello bello, quello che più vi piace, era il numero 30, se non erro, quello, giusto? dove ho messo la busta del 30, eccola qua, busta del 30, via, grazie, via, 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 poi, per il lotto, il prossimo lotto, vi devo far vedere un'altra rivisitazione, qua lo mettiamo qua, almeno possiamo mandarlo via, qua devo farvi vedere l'altro, questo è il bracciale, la signora, la gentile amica, non è in, perché ci sono scritti prima, non è in, davanti alla tv, quindi, il lotto è il 22, 22, 90 grammi e mezzo circa, se non erro, poi con la sua fibbia, il bracciale, non era 18 carati, tutto lavorato, guardate qua, lavorato, vedete qua, ha queste maglie, questo intreccio, se mi vai dentro Marco, per favore, ha questo intreccio, vedete, una maglia è singola, e quella dopo è doppia, singola, doppia, singola, doppia, per dare, vedete, il tipo di lavorazione, una sembra quasi brillantata, a un certo punto, e l'altro liscio, quindi, fatto veramente con tutti i crismi, con questa fibbia, questa fibbia in oro giallo, 18 carati, poi, vediamo un attimo, il lotto era il 22, Marco, mi scrivi per favore le caratteristiche, dovresti averle, salvate, se no te le dico io, il lotto, il 22, oro, oro giallo, 18 carati, 3.490, 3.490, 90 grammi e mezzo, grazie mille, 90 grammi, bravo, 19 e mezzo, per 4 e mezzo, aveva ancora le misure, 90 grammi e mezzo, 3.490, via, grazie, via, grazie, io dico a quella signora, quella amica, cara amica, ora, stasera quando tornerà, io domani, vedrò, non so se lei è la regista, mi sembra di sì, ma vedrò, di metterla su YouTube, di vedere, già domani, per farle vedere, appunto, il bracciale che mi aveva richiesto, mi aveva affermato, io l'ho portato apposta, così, affinché lei lo possa vedere, questa è una mia, rivisitazione che nessuno mi ha chiesto, ma me la chiedo io da solo, questa qua, signori, era il numero 32, per il 32, questa collana che mi fa specie, mi fa strano che sia ancora qua, sia ancora qui presente, dovrebbe già essere andata, ma non perché la diamo noi, non perché la stanno regalando, ma la stiamo facendo vedere, è una cifra molto bassa, 1.940, oro rosa, oro rosa, oro rosa, 18 carati, signori, qua parliamo di gioielleria, che ora non si fa più, voleva rivedere, il bracciale è quello prima, non quello l'ultimo, perché è fatto prima, ma il Fope? Sì, voglio dire il Fope, non giustamente, sì, sì, via, grazie, via, grazie, via, grazie, poi, andiamo a vedere il Fope, è la terza richiesta, non c'è due senza tre, ma vi garantisco che per oggi non c'è tre, c'è tre senza quattro, perché, poi non lo faccio più vedere, questo mi rimane, quando mi rimane Fope, vi dico la verità, per me non è assolutamente un problema, perché? Perché non c'è la ragazza, che vuoi dire? Faccio, faccio, brava, fa vetrina, brava la Ale, Fope, era il numero 30? 30? Veloce, eh, 30? 2150, è l'otto e il 30, Fope, mai indossato, mai indossato, va bene, e più, quando hai, prendi il mio telefono, poi ti chiamo io, ci mettiamo a parlare, spiego com'è la, via, sì, via, grazie, 2150 era il 30, così poi lo facciamo andare, eh, cosa? L'hai dedotto a te dalla telefonata? Te l'ha detto lei? ok, vediamo, il Fope era il numero 30? Ok, via, è per quello che me l'hai fatto, le hai tirare fuori, l'hai dedotto così velocemente, poi, questa, questa, la signora che ha richiesto questo qua, che è il numero 26, che ha richiesto questo, e io le dico, cara amica, se dovesse mai pensare a questo qua, pensi anche al, cogliere, perché anche il cogliere, anzi, soprattutto il cogliere, è da mille ed una notte, 1790, 1790 ho fatto? Sì, ma siete sicuri? 1950, eh, 1790 era il cogliere, ecco, no, è il 26, no? Hai sbagliato tu Marco, il 26, 1950, e tanto oggi non ci vedono, io questo canale qua, alla fine mentre stardisco, si spende un po' meno, eh? 57 grammi, oro rosa, oro bianco, oro giallo, vabbè, la poesia è stata interrotta, no, centimetri 57 grammi Marco, Marco però se vai a far, ho preso il martedì, perché lunedì dico, non può andare a far serata, se mi vai a fare serata anche lunedì, è la tua età, via, grazie, va bene così, 57 grammi, torna pure su di me, eh? 1950, bene, era il numero 26, giusto? perfetto, e poi, così poi, possiamo sbaraccare qua, vi faccio vedere, questa invece me la fo, me la fo io, me la fo io, ma che strana così mi è rimasto, boh, va bene, va bene, me la faccio io, questa, 18, il numero, giusto? 2050? 2050? 2050, 57 grammi e mezzo, 2050 euro, la richiesta per questo, oro vicentino, l'otto al 18, 18, che strano però, che non abbiamo chiamato anche per l'Omega al Deville, anche perché un Deville ha quella cifra, ma è un pezzo che, no? Poi, pensate, ma, ora, voi guardate questo, io, vabbè, sull'oro sapete già come io la pensi, no? L'oro, le banche, i signori, e tutto quanto, voi già sapete come io la pensi, ma io dico, ma, Santinumi, 60 grammi, 58, ok? Ah, mi dite, ma sai, io, o, o, volevo fare un investimento, signori, ma l'investimento, di questi tempi, cosa, la borsa, che oggi, eh, non, cosa, la borsa, che oggi va a, da, che, come si dice, ha un più due, e poi stasera, eh, tieni, ce l'ho qua uno, la borsa, che stasera ha un più due, e, cioè, ora più due, stasera magari va a meno quattro, cos'è, la banca, eh, bot, cct, ccp, ppc, e tutto il resto, signori, qua, si dice sicuro come le banche, o sicuro come l'oro, via, grazie, quindi qua, non sto neanche a discuterne, ma l'altro, parlando dell'altro, il, eh, Deville, che, sì, sì, grazie, che non c'entra con questo discorso qua, del, ah, a 200, 300 euro, ma 300 euro, ma io mi vengono, la gente mi viene a portare il Braille, dai, senza, senza offenza al Braille, a chi lo vende, carino, un bel orologio, quello che volete, ma mi venite a dire del Braille, a, 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 a 6700, che quando vengono da te il Braille, quanto gli dai? eh, dai, su, ora ti, ti do tutto, eh, a proposito di sforza, qua, non c'è stata la richiesta, allora me la faccio io da solo, abbiamo due carati di smeraldi, tra smeraldi e rubini, 90, 86 grammi il peso, anzi, il peso non me lo mettere, per favore, sforza, oro 18 carati, oro tendente al verde, vedete appunto, con questi Buddha, questo tipo di lavorazione, sforza signori, oro giallo 18 carati, i Buddha, sono quanti Buddha? Bravi, 5, esatto, 5 i Buddha, sforza, oro 18 carati, signori, questo è uno di quegli oggetti, che può piacere come noi, non sto a dirvi, eh, ha ragione chi dice che è pesante, ha ragione chi dice che è leggero, quanto l'avevo fatto vedere, ti ricordi? Sì, io lo faccio leggero, lo faccio leggero, a quanto l'avevo fatto vedere? l'avevo messo già via, l'avevo presentato l'ultima volta? Sì, faccio prima costruire la macchina del tempo, andarmi a rivedere, fai con comodo, ah, non l'ho portata l'ultima volta, hai ragione tu, 5200 euro, anzi, 4950, 4950, 4950, poi se era meno un'altra volta, farò meno io, sforza, giada, mi metti giada, è uno dei primi, sforza, fatti questo, è stato fatto, dato che, non è, il tipo di lavorazione dell'oro è il suo, ma il tipo di collana no, probabilmente sono stati acquistati i Buddha, magari altrove in, in tutt'altra parte del mondo, i Buddha in giada, e poi si sono recati da sforza, hanno detto, senti, vorrei spendere quanto una casa, mi fai per favore un gioiello, su questi Buddha, e a fare un gioiello così, soltanto un maestro, poi può piacere come no, perché l'altra volta c'è, perché lei non lo metterebbe mai, ma sono d'accordo, ha una catenina d'argento, questo vi fa capire, il senso di quanto lei ne capisca di oro, ecco, bravo, ma guarda, te l'ho detto, lo dico sempre, però, non mi piace l'oro, non mi piace l'oro, adesso, punto luce, il brillantino, il braccialetto, però ora invece c'è l'argento, mi ha venduto un punto luce, lei l'avevo venduto, un taglio diamante, gli ho detto che è un brillante, via, bravo, è già andata bene, è già andata, in giro si ritrova di fasulli, va bene, e poi, vediamo un po', ora diamo questo così, e va bene, ecco qua, 1.990, dai, 60 grammi, 1.990, andiamo a vedere questo collier, 42, 44 centimetri, poi se volete vi dico, la misura, sulle 15.42, abbiamo ancora 40 minuti, 45 minuti, vediamo un attimo, 1.990, grammi 60, bella lavorazione, sì, ti do solo più questo, e poi così, 1.990, il lotto è il 37, ricordo sempre, se dovete vedere qualcosa, non fatevi problemi, chiamate, veniamo noi a casa vostra, gratuitamente, senza alcun tipo di impegno, senza alcun tipo di problema, vediamo ancora un attimo, 1.990, poi alla fine, poi alla fine, oro anni 20, anni 30, lavorazione, guardate che tipo di lavorazione, sfido io, a trovare qualcuno che ora, come ora, faccio una lavorazione simile, è impossibile, ve lo metto per iscritto, qua, avete, a 1.990, grammi 60, quindi a 32, 33 euro al grammo, signori, qua, avete, assolutamente, ma lo dico gridando, perché mi entro nella testa, perché comunque, ho abbassato il dito, e va bene, mi sento questo qua, che mi fa una testa così, ascoltiamo cosa dice, io vi dico, ve lo godete, il cogliere, vi godete i vostri soldi, che non rimangono di farmi, ma anzi, sono soldi che camminano, nel senso che, oggi l'ho comprata questa cifra, fra 10, 15 anni, vi posso garantire, che la cifra sarà ben maggiore, quella che voi farete, andando in agilirione, compro ora, e rivenderlo, i grammi 60, ora 18 carati, a 1.990, una lavorazione così, cosa vi devo dire, niente, ciao, via, grazie, torna su di me, e passiamo altri in totto, si e come, grazie mille, se ce la faccio passo dopo, anelli con brillanti, grazie, anelli con brillanti, andiamo a vedere un anello con brillante, qua, ho una cara amica, che sono andato l'altra volta a trovare a casa, che mi ha detto, sai, se hai ancora quell'anello, mi piacquerebbe, e vediamo un po' di accontentarla, allora, a 12 grammi e mezzo il peso, 3 carati 80, i brillanti, mille, mille e quattro, la richiesta, regalato, allora, a 3 carati 80, signori, è, regalato, è che oggi non stiamo lavorando, è che oggi non stiamo lavorando, cioè stiamo lavorando pochino, e quindi mi va di, pochino nel senso, aspettate, pochino a rispetto a quello che è, quello che speravo di fare, certamente non un pochino nel senso dei numeri, però infatti vedete, non mi sto lamentando, la mia polemica è messa da parte, sul fatto che non si lavora, questo e l'altro, è stato un periodo di referendum, che lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, dopodiché, ci siamo ripresi, ora, avendo cambiato giorno, naturalmente, adesso zoppicheremo un po', e poi abbiamo lasciato un canale, che poi vedremo se riprenderlo o meno, però, mille e quattrocento, signori, 3 carati 80 di brillanti, 3 carati 80 di brillanti, ma si dice come ne suona, 3 carati 80, ora, io vengo lì e vi dico, senza che voi vediate nessun anello, parlate con un'amica, e dice, mi sono comprato un anello, ah sì, quanto pesa? 13 grammi, 12 e mezzo, oh però, tutto in oro, ma tutto in oro 18, sì sì, quanti, ha delle pietre sopra, ha qualcosa, oppure tutta una fascia, no, ha 3 carati 80 di brillanti, si dice come suona bene, 3 carati 80 di brillanti, e la vostra amica, dice, come ha fatto a comprarsi, quella cosa lì, l'avrà pagato 5, 7 mila euro, non è, mille e quattrocento, a mille e quattrocento, vi rendete conto, 3 carati 80, è naturale che andando a prenderlo nuovo in gioielleria, lo si paghi 7, 8 mila euro, signori, 6 mila, volete che ora c'è, crisi 4 e 8, 5, ma signori, sono sempre 3 volte, 4 volte tanto, sono 3 carati 80 di brillanti, 3 carati 80 di brillanti, vi rendete conto, che mettendolo al dito, dove girate e girate, ci sono sempre pietre preziosi, sono due tagli di pietre, 4 binari, i due contorni, ha 4 carati, e 3 carati 80, ma se voi dite, ho preso un anello da 3 carati 80, ma sentite come sono a bello pieno, via, grazie, e io vi dico, e non stiamo lì a pensare di prendere un anello così, era il numero? stiamo lì ancora a decidere se prendere o meno un anello così, è follia, perdonatemi se mi permette, ma è follia pura, cos'è? Follia pura, ha fatto anche lei così con la fronte corrugata, come me, follia pura, ma io mi chiedo, ma io mi chiedo, ma poi, un altro anello con brillanti lo cerco subito, però ho questo, ho questo che è veramente carino, ho questo che è un conto vendita di un amico, prendetelo perché non lo sopporto più, ha un pavè di zaffiri bianchi, la misura è un 15-16 presumo io, un pavè a bull, 9 grammi e mezzo, 9 e 3, senti, scrivi 9 e mezzo, poi, eh, vediamo un altro, se ce li ho, sì, se ce li ho, se ce li ho, faccio le dire, allora, va bene, 300, no, 2,90, 2,90, con un'aggiunta di 10 euro, arrivata a 300, ve lo faccio lucidare e mettere assolutamente a nuovo, un bel pavè, fa molta scena, bello questo, da donna anche da mignolo, io, vabbè, ho un cliente, un uomo che li porta anche lui, quindi, un pavè, bello, via, grazie, il 39, così passiamo ai 40, giusto? Sì, no, 40, la signora ha richiesto ai bracciali che ora faccio vedere, ma fatevi dare 3 o 4 di seguito, peccato che non mi abbia visto, ah, io per questo, io per questo, volevo contattare un mio caro cliente, io, allora, di Giada, ne so, tenete conto che ho dei clienti amici, tra virgolette, e lui mi ha detto, ma sai l'altra volta ho sentito che hai detto, amico, se mi posso permettere, ci fate due risate con la mia signora, va bene, quindi ho degli amici, clienti, che ne sanno anche più di noi a volte, perché c'è un qualcosa di specifico che appassiona tanto, la cosa che fa la differenza col commerciante, perché il commerciante sa un po' tutto di tutto, di quello che è inerente al suo settore, però poi arriva, come lui che fa l'orafo, ma gli piacciono gli orologi, magari fa collezione, e ne sa più di te su quello che ha il macchinario, il movimento, come è stato fatto, come è stato assemblato, però poi tu, la tua inferinatura, c'è tutta, tu sai qual è il prezzo commerciale, e di lì poi il commerciante è una cosa un po' più sottile da fare, però volevo chiamare lui e chiedergli, ma secondo lei, questa Giada, è o non è di alta qualità? Perché per me lo è, però ho detto lui lo sa, lui già ad avorio corallo, lui proprio mastica benissimo, però essendo poi all'estero, non ho voluto, non ho voluto disturbarlo, anche perché a volte sembra di voler, per forza, vendere qualcosa a qualcuno, ed è una cosa che non mi piace fare, allora, qua abbiamo tre carati e mezzo di rubini, poi Giada lavorata a mano, naturalmente, andiamo a vedere questo bracciale, tenete conto che sarà circa un 17-18, un 18-18 e mezzo di polso, non credo di più, allora qua abbiamo rubini, questa forma margherita, questo fiore di rubini, poi tutto questo contorno in oro lavorato a mano, ok? Poi di nuovo la Giada, forata e traforata, di modo che faccia anche respirare, oltretutto, poi con un bellissimo contorno, un contorno che a me piace particolarmente, il colore dell'oro è un colore molto vivo, più scuro come quello dell'epoca, perché è un bracciale d'epoca, ma molto vivo, perché è un oro con una buonissima, ottima caratura, poi ancora motivo floreale, allora io girandolo così due o tre volte, voi lo guardate, e poi lo guardate, e poi lo guardate, e poi lo guardate, e poi mi dite, ma senti, ma un attimo, la chiusura, ora alcuni di voi che hanno la vista più lunga, l'avranno vista da dietro, ok? Da questa parte qua, diciamo, nella parte retro, ma la chiusura, otto di sicurezza, la chiusura è questa, cioè voi vedete la chiusura scomparsa, qua parliamo di tre carati e mezzo di rubini, vediamo maschio e femmina, guardate qua la bellezza, guardate qua la bellezza di questa chiusura, vedete che riprende poi, appunto, tutto il disegno, lo si chiude, e quando vedete, una chiusura così, dove il punto a pressione, il maschio e femmina, il, appunto, la linguetta che va, a mettersi nella cassetta, è, il bottone, è formato da questo motivo floreale, da questa margherita di rubini, ora, se vi chiedessi 6-7 mila euro, di, per questo oggetto, per questo gioiello, scusate se ho detto oggetto, perché sono stato offensivo, sarebbe la cifra che dovrei, la cifra sarebbe quella, io vi chiedo, 3.400 euro, 3.400 euro, qua, un'altra cosa che io ho detto, a parte l'idea che c'è stata, perché vedete la chiusura da dietro, la si vede, è questa qua appunto, solo che per l'idea, però io vi dico, signori, voi avete idea, sapete, cosa costi fare un oggetto, senza andare sull'antico, sull'oggetto di qualità, voi avete idea, di cosa possa costare, fare un oggetto così, sapete quanta giada, va buttata e sprecata, per riuscire, a intersiare una parte così, sapete cosa voglia dire, fare 4-5 elementi, tutti uguali, avete idea, di quanto sia difficoltoso, assolutamente difficoltoso, riuscire a comporre, una chiusura in questo modo, eh, ma difficoltoso al massimo, voi pensate, vi ripeto, questi sono quegli oggetti, che lasciano il segno, io purtroppo su un braccio da uomo, non ce lo vedo proprio, però il discorso qual è, che è bello, pensate, sta bene a me, sta bene a me, con quel braccio di da scimmia, sta bene a me, ma pensate a voi, immaginatevi voi, un bene di famiglia, un oggetto che vi identifichi, ne parla un altro giorno, con una cara cliente, la casa ti identifica, quello che metti in dosso ti identifica, i vestiti ti identificano, perché la realtà, la realtà è quella, presentatevi per quello che siete, persone che hanno gusto, persone che sanno scegliere, che hanno voglia di scegliere qualcosa di diverso, e quindi, oppure, scaghi, 845, no, no, a parte d'audi, a martedì, a delle due, alle 14, alle 16 e 13, no, sì, tutti martedì, solo a martedì, sì, sì, tra 9, 7-8 anni di cosa? 7-8 anni? che siamo in tv? facciamo i negozi il nostro? sono 12 anni via, grazie il nostro sono 12 anni che siamo presenti, noi siamo presenti che facciamo in tv? sono più di 5 anni per il mercante d'oro io l'ho fatto anche per altri così come sono andato a farlo anche per Alessandro Orlando quindi è stato bello l'altro giorno appunto quell'amico di Reggio Emilia che dice sai, ho voluto provare ho voluto provare a vedere il tuo modo di lavorare dice perché t'ho visto parecchie volte da tante parti dicevo capire più o meno che elemento sei dice vedendoti da tante parti vedendoti sempre che numero era il già da? 40 vedendoti sempre vedendo che sei spesso presente dice non potevo pensare fosse uno che arriva mucchia più che puoi e scappa via dito bravo hai detto bene io ci metto la faccia io vi dico nome e cognome assolutamente a differenza di altri vi dico dove trovarmi vi dico dove siamo vi dico appunto di vederci su facebook dove c'è il mio profilo personale vi dico un sacco di cose non ci nascondiamo dietro a niente dietro a niente di tutto ciò assolutamente non scappiamo dimmi chiedono il pop e con brillanti ah lo avevo detto in inizio tv non pensavo che nessuno fosse interessato allora 750 euro rubini brillanti 15.16 grammi circa andiamo a vedere rubini e brillanti 16 grammi 750 grazie Emma che mi dice sai qua Sestri si vede bene è bello avere mezz'ora in più però che bello era anche con le quadrici vabbè ciao e scapi via 750 fate le proporzioni con le mie mani tenete conto sono alto un metro e novanta non è che sono non sono chissà cosa ma non sono anche un tappino quindi voglio dire se fate la proporzione con le mie mani vedete che l'ogiatto è abbastanza grande a 750 euro è sicuramente abbastanza un ottimo prezzo via grazie via grazie poi e poi mi è stata richiesta la parure di Fope io ho questa qua con i brillanti ho questa con i brillanti quella con i brillanti a me piace piace particolarmente è un oggetto particolare io avevo venduta una così a dei clienti della Svizzera Svizzero e me l'avevano presi subito hanno chiamato e dice sai qua da noi un oggetto simile A non lo trovi e B quando lo trovi era meglio non trovarlo per la cifra che ti han chiesto vi faccio un esempio se andiamo sulla collana bravo Marco qua abbiamo la collana poi vi dirò la misura il bracciale è circa 19 e mezzo perché? perché abbiamo parure formata da bracciale e collana Fope oro bianco oro giallo 18 i carati la richiesta signori 0,60 di brillanti 0,60 di brillanti cosa vuol dire? che che sono più di mezzo carato che siamo più prossimi al carato che al niente 0,60 vuol dire che siamo oltre il mezzo carato brava quindi contando che saremo e non me lo scrive sui 60 65 grammi fai conto 60 bracciale collana così secondo te cosa possono costare? qua da noi lei dice 4.500 tu dici 4.850 io dico vediamo un po' quanto vi posso fare 3.550 3.550 3.550 eh Fope eh con i brillanti e questo noi che ci crediate o meno l'abbiamo pagato proprio caro ma non caro rispetto a quello che costa Fope perché rispetto a quello che costa Fope noi non abbiamo comprato niente e voi non lo comprereste a niente 3.550 19.5 il bracciale sulla collana saremo sui 42 44 centimetri via il lotto 42 via grazie via grazie poi subito dopo ahia subito dopo 3.550 mi hanno detto giusto? pensate Fope io ho detto esploderanno i telefoni ma pensate che hanno lasciato anche ah no quello lì non hanno prenotato senza impegno però era il 42 ok? senza impegno non hanno prenotato e vabbè l'altro di Fope quindi se voleste vederlo chiamate sono ben lieto di farvelo vedere poi il mio? sì a quanto l'ho fatto vedere più 7.7 non trovavo più l'orologio e ho detto dov'è? no che numero era? 24 24 ma che bello dai 24 il numero dell'otto giusto? la richiesta? vediamo se siete stati attenti vediamo se siete stati attenti l'anno? 2014 oh ma grandi è stato usato? sì ma pochissimo no da me infatti ho fatto la sciocchezza di metterla di giocarci con Arturo praticamente ma indossato praticamente ha la scatola e garanzia giusto? perfetto 7.700 sapete cosa manca soltanto più? l'acquirente brava oggi ha le su un pezzissimo proprio l'acquirente manca dovremmo fare una trasmissione in cui sto in piedi mi piace come da Alessandro lì otto ore in piedi erano un po' troppi sì brava allora qua signori ancora una cosa come si chiama il modello? Hulk bravo Ghiera Verde Hulk Submariner sì prendo questa la liquidizza Ghiera Verde Hulk Submariner sapete quanti di voi mi chiamano chiedendomi ma ce l'hai un Rolex? ma ce l'hai un Submariner? ma ce l'hai un Ghiera Verde? ora ce l'ho l'ho trovato lo volete? prendetelo ve lo faccio lucidare ve lo faccio mettere a nuovo entrami dentro il quadrante per favore Marco ve lo faccio mettere a nuovo queste qua sono ditate ve lo faccio mettere a nuovo signori non c'è alcun problema via grazie dimmi eh ora sì ora poi vi faccio vedere mi dispiace mi dispiace perché l'avrei dovuto farvelo vedere lucidato prima tenete conto appunto andando di nuovo vediamo un attimo ecco qua ok perfetto ora dopo semmai lo facciamo rivedere un attimo se tra poco mi ci dà una passata se hai qualcosa con cui passarlo perché il panno per gli orologi l'ho lasciato giù l'ho lasciato giù sai eh lo so lo so però c'ho anche coprighiera vediamo un attimo poi bracciali la signora prima ha chiamato la gentile amica ha chiamato e dice avete bracciali così cosa eh quelli da 40-50 grammi li abbiamo già fatti vedere vediamo questo questo siamo a 75 grammi circa andiamo a vedere allora io penso che su di me si possa dire qualsiasi cosa posso piacere posso non piacere posso stare antipatico posso sembrare un montato posso sembrare quello che volete posso sembrare polemico posso essere simpatico perché tante sono anche le telefonate che dicono ah ma quanto siete simpatici voi soprattutto lei perché quella signorina che le sta a fianco la taglia mica tanto però io vi dico questo signori quello che non si può dire è che la merce è che i gioielli non siano belli qua io penso di poterlo dire no ora voglio dire avete visto le collane avete visto i bracciali avete visto gli orologi avete visto queste qua sono oggetti che per da trovare uno deve girare tutta Italia e sperare di trovare di trovarli sperare di poter andiamo sul bracciale grazie ma di poter trovare in giro un bracciale simile 1 AR se me lo metti per iscritto 1 AR 75 grammi signore 3200 euro 3200 euro a 3200 euro vi sto facendo già un prezzaccio non fatevi tra virgolette fatemi passare il termine fregare da pesi e cifre che non sono reali pesi e carature perché quando mi ha chiamato il cliente Marco mettimi a metà per favore quando mi ha chiamato il cliente tempo fa io ho fatto vedere due brillanti da 050 all'1 un carato in tutto a 2700 euro a Fcolor da orecchio mi ha chiamato e mi ha detto ma io le ho viste a due carati l'1 a Fcolor a 2000 euro e così li compri li compri però poi non mi ha più chiamato quando poi ha aperto i giornali e ha visto tutto quello che era poi non mi ha detto avevi ragione tu no non me l'ha detto però lo capisco però signori nessuno regala niente ve lo do per garantito ma qua quando si ha questa cifra tornami sul bracciale per favore quando si ha certe cifre a 40 euro al grammo circa un bracciale così anni 40 1 a R signori quando si ha certe cifre un bracciale così perché non vantarsene perché non dire sono certo del fatto che la merce sia bella perché il presentatore è opinabile ognuno voglio dire ognuno si fa la propria opinione ognuno ha i propri gusti ognuno ha i propri interessi ma questo no se vi piacciono i begli oggetti questo non può non piacervi perché un bracciale così a fibbia così a incastra signori non si vede spesso anzi vi dirò di più non si vede quasi mai oltretutto parliamo di belle misure perché siamo a 20 centimetri e qualcosina a 20 centimetri voi pensate con i due con i due cose a pressione qua vedete come funziona bene allora signori 80 anni di storia della gioielleria dell'arte ora farà chiuso in un solo bracciale che funziona splendidamente come all'epoca ecco è talmente oh pensate è talmente ben fatto è talmente ancora curato che a pressione non va non devi schiacciare qua premere qua non va non va a pressione maschio femmina così a 3200 euro e ancora non è stato prenotato e ricordo se si trattasse di prenotare torna pure su di me Marco grazie se si trattasse di prenotare e dire senti io lo vorrei prenotare lo devo comprare per forza posso capire che non vogliate farlo ma qua si tratta di prenotare qua si tratta di prenotare e dire Cristian lo vorrei vedere a casa mia alle condizioni che tu hai detto e vedere se mi piace se fosse mai lo acquisto va bene se no cosa succede se non l'acquisto niente mi faccio un caffè prendo col mio collega ce ne andiamo via col mio collaboratore ce ne andiamo via e finisce lì lì finisce signori non è un problema è logico che io giro noi giriamo per vendere ma se anche non fosse lo capiamo perfettamente anche io vado a vedere una moto una macchina in giro non è teo perché chiamo perché ho visto la cosa dove va a comprare per forza ma ci mancherebbe altro ma ci mancherebbe altro però vi dico un bracciale così quando io vi dico 4 cm di larghezza vi faccio un esempio ora questo di preciso 3,5 come vi dico 3,5 di larghezza 20,5 di lunghezza c'ho la fibbia così pesa 75 grammi anni 20 1R signori a quel punto mi sembra che sia questo l'1R poi lo devo controllare sì 1R a quel punto signori vi dico non si scappa da quella qualità la qualità è quella assolutamente io vengo forte del fatto di sapere che non può non piacervi poi se non vi dovesse piacere cosa facciamo? bravissimo torniamo indietro che problema c'ha dopo il caffè offerto vediamo un attimo poi qua ho portato il piaget in oro bianco da donna al quarzo il quadrante madreperla abbiamo sulle ore 12 la scritta piaget la firma presteso e poi tra 6 e 9 appunto i numeri e dietro tutta firme firmette numeri referenze timbri dell'oro certificazioni dell'oro bianco 18 carati qua abbiamo uno degli orologi più belli da donna che mi siano capitati in negozio e di orologi belli da donna ne abbiamo avuti parecchi perché io ricordo il Vacheron perché io ricordo il Patè Philippe ora mi arriverà un Patè Philippe molto 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 similare all'altro l'avevamo fatto vedere quello in rosa quello in giallo poi un altro Patè Philippe in giallo in carica manuale non so se vi ricordate il Cartier in oro rosa non so se vi ricordate il Cartier in oro giallo questo è uno dei più ah o uno Jäger le cutre giù come si chiama la firma quella fatta delle fibre con l'h Hermes quando si va sulla moda con l'Ale fai conto che puoi andare come l'uomo gatto con la musica uguale allora con Hermes fatto per Hermes il lo chiamano il lucchetto lo Jäger le cutre fatto a lucchetto apposta per Hermes appositamente per Hermes costa lo trovi su internet dai 2000 e passa ai 9000 euro a seconda del modello lo porto la prossima volta questo Piaget nel frattempo 3200 euro signori 3200 euro in oro bianco 18 carati favoloso 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 ma guardate la bellezza sapete che un cinturino Piaget è così cosa potrà costare il cinturino in pelle e vai a chiederlo in vernice brava 400 euro magari ah gli hai detto 800.000 euro ok perché io lo dico sempre la mia avevamo ecco il bagnare della 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 Cartier la mia cara clienta mia cara amica aveva fatto fare il cinturino in raso il cinturino in raso gli è costato 950 euro 12 anni fa 950 euro il cinturino in raso quindi Piaget in oro bianco 18 carati via grazie ai 44 e passiamo ai 45 per il 45 abbiamo questo io qua aspettavo la mia cara amica che poi non è arrivata ma no aspetta ancora lei va questo anello oro bianco 14 carati mettici solo oro perché devo controllare i timbri mettici solo oro e devo controllare i timbri oro bianco vediamo i brillanti sono bianchi e sono neri Marco ecco vai dentro i brillanti bianchi e i brillanti neri una balla fascia vediamo un po' quanto vi posso fare signori ma a 250 euro ma a 250 euro vieni un attimo qua tesoro per favore a 250 euro brillanti bianchi e neri qui qui cosa sì 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 che lo indossi un secondo torna su di me no è un po' sì niente non va e l'altro no c'hai due mani te l'hanno detto sì ma tieni conto che non ti sto sposando te lo dico prima bene andiamo a vedere di qua di qua la telecamera è quella bene andiamo sulla telecamera sull'anello Marco per favore voglio farvi ecco qua voglio farvi vedere oh tienilo così oh le mani sono un po' rovinate dal freddo ma ci sta piccina tienila così guardate ma 250 euro brillanti bianchi e neri ma brillanti ce ne sarà un carato saranno 80 punti signori a 250 euro anche fosse euro 14 americano ma a 250 euro stiamo qua a parlare di questo anello scusate prima che le rompa le dita ecco qua ho fatto il lifting alle dita visto non si vede più il freddo torna pure sull'anello Marco grazie perché non riesco a capire come un anello così non possa essere ancora possa essere ancora ma vabbè via via dai via se no divento pesante divento noioso 45 250 euro ma io mi chiedo ma io mi chiedo cos'era 44 il piaget 44 si io lo so c'ho il trunchesino io sei cosa per i sigari poi 44 ah vabbè cosa eh no in tv le vedi tutte proprio quello che tu la mano tu la vedi così ed è normalissima tu la vedi in tv vedi le pellicine vedi cosa che che non questo per farvi capire per farvi capire qua su un serio una volta tanto come teniamo al fatto che si veda bene l'oggetto nel senso che preferiamo che se c'è anche qualcosa che non va che si veda lo stesso ma l'oggetto lo dovete vedere bene anche perché nel nostro interesse magari girando veniamo fino a Roma io preferisco che l'oggetto lo vediate perché se io mi vado su questo su questo bracciale e dico a Marco e lui sta distante quando io vengo giù a Roma ve lo vedete e non vi convince alla fine sono io che devo tornare su meglio che loro ve lo vediate subito poi questo è talmente bello che il problema proprio non si pone distante vicino qua proprio non si pone assolutamente qua abbiamo un carato di diamanti signori smalti questi qua smalto oro tutto oro smaltato lo vedete da dietro che è stato impernato avvitato e impernato scusate a pressione vedete sono due linguette che vanno a chiudere la pressione qua c'è un lavoro certosino c'è un lavoro veramente di ingegno voi pensate qua vi ricordate tipo i vasi closonè quando pagavate fior fior di quattrini per quei quei vasi closonè originali io parlo degli originali dei vasi closonè qua la lavorazione indicativamente la stessa qua abbiamo grazie Marco bravissimo oro giallo 18 carati poi impreziosito arricchito da smalti dati a fuoco e poi manualmente signori dati manualmente poi fatti i più resistenti a fuoco poi questi 5 cammei con diamanti oro bianco 18 carati abbiamo oro bianco abbiamo l'oro giallo abbiamo i diamanti abbiamo lo smalto abbiamo il peso signori abbiamo il peso poi siamo oltre i 70 grammi non ve lo mettere neanche Marco 3550 euro la richiesta io questo signori ve lo dico io ho fatto scrivere per correttezza oro a 18 carati ma secondo me l'oro è a 21 e vi dico di più che se fosse a 14 sarebbe comunque da pagare 3.500 4.000 euro figurarsi a 21 carati perché un lavoro così fatto a mano signori ora non si trova e voi direte e che noia con sto lavoro fatto a mano e che noia con sto non si trova la bellezza di questi oggetti è la consapevolezza di poterli indossare senza incrociare nessuno che nessuna che possa averli al polso perché Fope che è bello e qua ve lo dico per me Fope è bello ma non è niente non ha niente a che vedere con questo perché qua c'è una particolarità c'è un'idea c'è qualcuno che è stato lì giorni e giorni a perdere diottrie lavorando questo bracciale vi rendete conto qua c'è qualcuno che è stato chinato con la schiena così ore e ore giorni e giorni e forse mesi qua c'è un lavoro di bulino c'è un lavoro di smalti c'è un lavoro di incassatura c'è un lavoro di fusione c'è un lavoro di manuale perché poi questo è tutto fatto manualmente qua parliamo che se non è stato uno addirittura sono stati tre quelli che hanno dovuto fare che hanno fatto questo bracciale tre persone sapete il costo che poteva avere anche quando la manodopera era più bassa ma sapete il costo che poteva avere un bracciale simile voi pensate adesso ai giorni vostri andare dal vostro orafo di fiducia e dire senti mi fai un bracciale così lui che è un ottimo orafo tu saresti in grado di poterlo fare così così bene no eppure come ogni artigiano lui si sente migliore al mondo eppure lui la consapevolezza che un lavoro così ora non si fa e quando lo faccio ti chiedo talmente tanto perché è talmente noioso nel senso comunque dispendioso noioso in quel senso farlo che dico o prendo tantissimo o preferisco non farlo perché? perché è più facile che mi venga male invece che bene piuttosto che bene qua signori abbiamo un qualcosa che veramente non si vede in giro qualcosa che quando lo indossi che piaccia o non piaccia intanto se ne parla il mio caro ex titolare e capo e guru Borsetti diceva sempre Cristian sei tranquillo che piaccia o non piaccia l'importante se ne parla perché anche quando non piace comunque ha un'emozione perché se io vedo un bracciale normale non lo noto neanche un maglia cobra che io vendo qua un maglia cobra che dico anni 80 che vendo qua come investimento perché mettete da parte i soldi io quando lo vedo indossa qualcuno non lo noto neanche ma quando vedo un bracciale così io guardo la persona bracciale persona bracciale persona bracciale persona bracciale e basta poi guardo solo il bracciale qua veramente è un biglietto da visita come vi dicevo prima e mettete anche da parte i soldi perché 70 75 grammi a 3550 un carato di diamanti gli smalti e tutto il resto signori è mettere da parte i soldi poi ribadisco magari lo faccio vedere alla Ale che mi dice guarda bello ma per me troppo pesante alla vista lo faccio vedere a mia madre e quando lo vede le vengono le lacrime agli occhi perché questo è quanto alla realtà assolutamente chiamateci 010 5532 732 adesso ma chiamateci dopo il negozio e vi spiego io com'è 010 869 4205 oppure al nostro numero di cellulare quello del negozio adibito alle chiamate per il negozio 342 560 2404 chiamate su quello e mi dite Cristian mi spieghi di quel bracciale vi dico il peso vi dico le misure vi dico carature vi dico tutto quanto qua parliamo di qualcosa di veramente oltre signori se noi fossimo una casa d'aste faremmo anzi se lo avesse una casa d'aste farebbe il come si chiama il ora Deplia mi leva il nome vabbè quando fanno la rivista dove mettono tutti i lotti farebbe la rivista con questo in prima pagina perché questo è il pezzo da 90 e voi potreste avere la casa vostra a soli e sottolineo soli 3550 perché se voi mi dite di uno scooter 3550 dico sono tanti se voi mi dite guarda una maglietta 3550 sono tanti l'altra volta stavate a Milano io e l'Ale siamo entrati lì da Gucci abbiamo fatto un giro visto un paio di boccasini belli erano 4200 euro e sono tanti ma non lo sono per un bracciale dell'800 che forse ha 21 carati di oro che pesa più di 70 grammi che ha un carato di diamanti che è stato fatto a mano per quello non sono tanti assolutamente è un dato di fatto via grazie è un dato di fatto così come lo è per questo signori perché questo qua a 1250 euro tubolare con le roselline fatto a mano come già detto l'altra volta e lo ripeto da essere venuto un commerciante è un signore anziano che passa ogni tot ma molto molto in gamba me ne ha portato uno così me l'ha presentata a 50 a 65 euro al grammo e gli dico quanto pesa mi ha detto guarda pezzi così non si fanno al grammo ah sono d'accordissimo con lei gli ho detto perché quando vengono i clienti che io ho questo mi dà fastidio quando mi chiedono quando lo dico però mi dispiace al che mi dice no guarda mi sembra 65 euro al grammo mi dice fai conto che hai regalato per quello che ha allora era più sottile di questo più piccolo era bugnato qua e qua sul davanti ma bugnato quasi piegato e mi ha detto io così li vendo così li vedi e così devono essere cioè ti devono piacere dice è bugnato è dell'ottocento dice anche io ho le rughe sì dico sì ok allora le faccio vedere una cosa gli ho tirato fuori io questo le ho fatto vedere mi ha detto guarda perdonami non ti propongo più il mio io vendo a meno questo di quanto lui volesse del suo e ripeto bugnato in due parti quasi piegato quindi 1250 ora 18 carati è dell'ottocento signori qua parliamo di un oggetto con più di 150 anni di storia è dell'ottocento anche questo va premiato via grazie poi ah il 48 no aspetta un attimo il 48 il 47 era quello lì con i cosi no? sì il 46 allora era quello con gli smalti? poi abbiamo provato a togliere qualche ditata perché io su queste cose patisco perché basterebbe tanto poco e sono il primo a presentare le cose come andrebbero presentato ho fatto anni così allora vami dentro 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 più dentro ok vengo io da te così allora signori questo è il Hulk Ghiera Verde bene l'avete visto? via grazie abbiamo tolto quelle ditate torna pure su di me Marco grazie abbiamo tolto quelle ditate là che vi dicevo ora poi se doveste essere interessati ve lo faccio lucidare non perdo il vizio lo voglio apportare al polso quando voi parlate quando voi parlate quando io parlavo l'altro giorno a un certo punto vedo l'amico facevo cosa guarda no? dico sai eh bravo guardando il mio amico lo vedo no? e continua con sta testa va da una parte va dall'altra poi mi sono reso conto dopo che avevo l'orologio al polso che lui guardava a muoversi così e diventava matto finché poi non gli avevo fatto provare era contento e mi dice guarda non fosse che ho la bambina piccola da poco mi dice non rinunciavo allora facciamo ancora uno due oggettini dopodiché passiamo ai saluti vediamo un attimo anzi facciamo una o due rivisitazioni queste me le faccio io perché ultimamente nell'ultimo 20 minuti non avete più chiamato mi sembra quindi ve lo faccio io il 40 era quello con la Giada? ecco qua è da collezioni da collezioni ti ho fatto provare questo? sì ma in tv? no ah vieni un attimo allora torna su di me Marco vieni qua ok vai allora era il numero? Ale? 40 40 il numero Marco sì bene 3 e 4 via guardate un po' dimmi ah sì guarda che bello che è sì subito intanto abbiamo un minuto e mezzo ce la facciamo dai solitari ah qua ne ho uno qua ne ho un altro e qua la trilogy veloci dai un carato e venti il centrale 0,40 i laterali contorno diamante eh signori 0,40 1,20 oltretutto bianco bello la richiesta 2.800 euro 2.800 questo qua signori 2.800 un carato e venti più 0,40 no è diamante diamante non brillante vabbè lo dico io è diamante signori non brillante è un taglio vecchio ma non vecchio 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 è praticamente un mezzo taglio più 40 punti via grazie al 48 poi passiamo questi qua mi dispiace farli vedere così ma dovrei perderci un po' di tempo poi questo signori un carato e trenta di color 2.000 questo qua è un pochino meno bello sì è un taglio anche un po' più vecchiotto sì 2.190 euro oro rosa e oro bianco la montatura oro rosa e oro bianco la montatura andiamo a vedere l'anello perfetto bene 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 questo qua è l'anello guardate la bellezza di questa montatura mi dispiace farvela vedere così non dovrei però alla fine purtroppo questo hai le mani sono quelle il tempo è quello quindi ciao eh aspetta un attimo Marco mi hai detto un minuto e mezzo prima dai solo un secondo solo un secondo falla vedere un attimo bene no falla vedere un attimo questa è una trilogy comprate la senolale da qua ad agosto non mi dà tregua bene torna su di me allora intanto vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento a martedì prossimo alle 14 alle 16 e 30 vi bacio vi abbraccio ciao da tutti grazie per l'ascolto grazie a tutti